Buongiorno, siamo in collegamento. Io vi porto i saluti del Presidente di Fedefarma, Marco Coso, che per il sopravvenuto impegno può essere qui tra noi, ma volevo esprimervi il piacere e l'orgoglio di organizzare questo Consumer Forum, che metterà al centro del dibattito il cittadino e il paziente. Noi in questo periodo abbiamo potuto verificare insieme tutta una serie di criticità, ovviamente poi con la pandemia si sono resi ancora più evidenti. Ovviamente c'è un problema di aumento di popolazione, un problema di conti pubblici, insomma tutta una serie di problematiche che portano questo Paese a dover riconsiderare a tutti gli effetti un sistema sanitario nazionale che comunque il mondo ci invidia. La pandemia si è innestata su una situazione già difficile, pensiamo a tutte le difficoltà per i pazienti di raggiungere le strutture sanitarie, pensiamo a come e quanto i pazienti cronici hanno avuto difficoltà poi nel verificare e controllare le proprie cure e l'accesso appunto alle strutture sanitarie. D'altro canto possiamo poi successivamente abbiamo capito che come e quanto saranno necessari nel corso degli anni usare sempre di più strumenti digitali e strumenti per far sì che la salute sia comunque il più possibile prossimare al cittadino. Io come Fedefama voglio esprimere naturalmente un pensiero a tutto il lavoro fatto dalle farmacie sul territorio, pensiamo a una farmacia capillare ma approssimare al cittadino, nella quale appunto i pazienti hanno trovato un ricovero importante per tutte le problematiche relative a quel periodo dove magari tante porte erano chiuse ma le nostre sono state sempre aperte, giorno, notte, festivi. Non abbiamo avuto farmacie che hanno lavorato a battenti chiusi quindi sempre in linea con le esigenze cittadine. Una farmacia che poi si è organizzata e si è scoperta anche una farmacia diversa se vogliamo perché noi siamo passati da una farmacia di dispensazione del farmaco fondamentalmente con il Covid, veramente una farmacia di redazione nella quale il farmacista ha dovuto, o meglio ha potuto interfacciarsi con i cittadini che hanno avuto necessità sempre più impellenti di confronto con il sistema sanitario. E stiamo passando devo dire a una farmacia che piano piano si riscopre sempre più tecnologicamente avanzata ma nel contempo avanzata soprattutto sui servizi relativi ai cittadini. Quindi pensiamo soltanto ai vaccini, una frontiera nuova per questo paese ma già presente altrove dove devo dire specialmente con il Covid abbiamo avuto la grande opportunità di vaccinare persone che avevano difficoltà a raggiungere i centri vaccinali che via via sono stati chiusi anche per questo perché le farmacie hanno vaccinato veramente tantissime persone in quel periodo e lo fanno ancora. Pensiamo ora alla nuova campagna vaccinale che sta partendo e che vede anche le farmacie pronte in prima linea. Quindi una farmacia che noi riteniamo potrà essere un futuro sempre più di ausilio al sistema sanitario nazionale. Pensiamo alla telemedicina, riflettiamo sul fatto che durante la pandemia sono stati effettuati circa tre volte in più telemedicina all'interno della farmacia, quindi elettrocardiogrammi, oltre e quant'altro. Proprio perché il cittadino non potendosi legare verso le strutture sanitarie si è rivolto alla farmacia più vicina. Questo purtroppo ovviamente è accaduto a pagamento però non per questo il cittadino si è tirato indietro, anzi ha trovato quel grande vantaggio di non andare verso le strutture e quindi di conseguenza avere un impianto prossimale alla propria casa. Un problema che stiamo riscontrando ora sempre rispetto al farmaco, per esempio la distribuzione diretta, è ovvio e naturale che alcuni farmaci vanno dati in ospedale per forza sia per i tempi, modi e luoghi di somministrazione, anche per i costi particolarmente alti, però dobbiamo dire che cittadini che abitano in luoghi disagiati, e il nostro è un paese disagiato, perché noi al di là delle grandi città dobbiamo pensare alle catene montuose che ci contraddistinguono. Bene, alcuni cittadini dobbiamo passare da un paese piccolo in cima alla montagna, andare presso la propria asa di riferimento a prendere i farmaci e questo non può che essere di documento, perché poi non ci si può andare sempre in prima persona, bisogna avere il caregiver che lo fa, quindi il nipote piuttosto che il fratello, il parente e questo comunque, diciamo, spesso poi trovando questi farmaci magari a determinati orari, quindi se ci se ne dimentica il venerdì si rischia di stare senza farmaco fino al lunedì o al martedì successivo. Quindi, ripetiamo, è una farmacia che vuole essere e che sente di essere sempre più vicina alle necessità dei pazienti e dei cittadini. L'obiettivo del convegno è proprio questo, è proprio questo, quindi fare un punto della situazione e capire come e quanto il cittadino debba tornare al centro di un sistema sanitario all'interno del quale la farmacia, che ricordiamoci essere, lo dico sempre, una concessione governativa, è un elemento della catena fondamentale di questo sistema sanitario nazionale e regionale. Le farmacie hanno fatto quello che hanno potuto, hanno fatto il loro e sono ancora disponibili ad interpretare quella necessità di salute, quella necessità del cittadino, di rivolgersi a strutture, ripeto, prossimali ai propri luoghi di lavoro, ai propri luoghi abitativi e cercare in questo modo di far sì che le farmacie siano sempre più vicine al sistema sanitario nazionale ma anche al cittadino. Noi pensiamo alla telemedicina, sicuramente la nuova frontiera è importante, è anche previsto dal PNRR, beh le farmacie in questo periodo potrebbero tranquillamente collegarsi con i centri di salute nazionale per far sì che il cittadino rimanga, cittadini naturalmente che hanno difficoltà poi di di movimenti di manga, quindi nella farmacia e si possa collegare con elettrocardiogramma per esempio con il proprio cardiologo nella struttura sanitaria. Non ho molto altro da dire, credo che questo consumer form sia veramente importante per capire come e quanto il cittadino debba tornare ad essere il fulcro del nostro sistema sanitario nazionale che in questo momento purtroppo, ma per necessità, è ovviamente dettato anche da problematiche economiche e finanziarie che poi stabiliscono come e quanto la salute debba arrivare al paziente. Quindi io vi ringrazio per essere qui, siamo molto orgogliosi per aver organizzato questo consumer form, devo dire grazie agli importantissimi datori che ci sono e auguro a tutti buon lavoro. Grazie. Grazie al dottor Alfredo Procaccini, vicepresidente di Federfarma, grazie per l'ospitalità, sempre gentile da parte di Federfarma e grazie per le sue parole. Voglio ringraziare anche il vicepresidente di Consumer Forum, Paolo Betto, nonché mio amico con il quale collaboriamo da cinque anni e con lui abbiamo pensato, oltre che con tutto il direttivo di Consumer Forum, questa iniziativa a inizio anno l'abbiamo programmata, grazie Paolo, e da quando ne abbiamo parlato il settore sanitario è diventato sempre più al centro dell'attenzione, ma non perché ne abbiamo parlato noi, ma perché la situazione, da quello che vediamo, è molto molto difficile. Io condivido quello che diceva il dottor Procaccini sulle farmacie, rimangono tra i pochi presidi territoriali a disposizione dei cittadini, perché come voi sapete tutti i servizi si stanno un po' trasformando, diventano virtuali, tutto si fa online, le banche hanno chiuso 1600 sportelli e così altri servizi, quindi il rischio è che il cittadino non abbia di fronte nessuno a cui rivolgersi e in particolare il tipo di cittadino che si rivolge alle farmacie, al sistema sanitario, evidentemente per il 60-70% del cittadino che ha una certa età, quello che ha meno dimestichezza col sistema digitale, a lavorare online, quindi è un fatto importante e positivo questa diffusione territoriale e anche la possibilità poi di, all'interno della farmacia, di fare altre operazioni, analisi eccetera. Poi ce ne parlerà in un modo più diffuso la dottoressa che è responsabile della Liguria, va bene? Sì, grazie. E quindi che dice che in Liguria c'è un sistema molto avanzato per ciò che riguarda il ruolo delle farmacie e quindi ascolteremo con molta attenzione questa cosa. Dicevo del sistema sanitario, noi come associazione dei consumatori, a parte cittadinanza attiva che poi farà la relazione insieme a Fedel Consumatori, ma cittadinanza attiva se ne occupa da sempre di sanità, va bene? Le associazioni non se ne occupano da sempre. Hanno come core business soprattutto la difesa del cittadino dal punto di vista dei servizi, da quando ci sono le liberalizzazioni da 1990 in poi soprattutto sul discorso delle telecomunicazioni, energia, va bene, banche eccetera eccetera. Però è evidente che il servizio sanitario è un elemento centrale per il benessere del cittadino, da sempre. Qual è il rischio in questo momento? Io non sono un esperto di sanità, però mi sono letto un po' di cose e non riesco a trovare aspetti positivi in quello che ho letto. questo è il problema che vedo. Il rischio che si pavente che questa riforma del 78, che era una riforma illuminata, va bene, per molti aspetti, perché dava a tutti la opportunità di avere un servizio universale, era illuminata in Italia e in Europa, va bene, era un esempio anche da seguire, è un po' per volta cominci a perdere le sue caratteristiche più importanti. È ancora una risorsa importante, abbiamo ancora un servizio sanitario forte, efficace, però ci sono degli aspetti che sono abbastanza preoccupanti. Il primo aspetto importante è la riduzione dei finanziamenti, ma che non avviene soltanto con questo governo. Questo governo lo sta accentuando, ma è oltre dieci anni che c'è una riduzione dei finanziamenti del sistema sanitario. Ho letto un po' di dati, sembra che dal 7,5 del PIL che riguardava il 2020, arriveremo al 2025 al 6,1-6,2 del PIL di spesa. È evidente che una riduzione di spesa si accompagna a una riduzione dei servizi e questo è un aspetto molto preoccupante, perché nello stesso tempo crescono le disuguaglianze, crescono le asimmetrie sociali e anche quelle anagrafiche e se si riduce il welfare si riduce quella stanza di compensazione per chi guadagna di meno e oltre a ridursi il welfare si sta determinando anche uno spostamento a livello privato. Si va dalla sanità pubblica, si passa un po' per volta a una sanità privata. Per chi può permetterselo? Per chi può permetterselo? Perché da una ricerca OX, che dicevo proprio stamattina quando non sono stato presto, ci sono circa 4 milioni di persone che non si curano più in Italia, 4 milioni di persone che non hanno proprio i mezzi per curarsi. Per il resto ci sono taluni sistemi che stanno incentivando la sanità privata. Ci sono anche delle contraddizioni in questo senso. Io ho partecipato alla grandissima manifestazione che è stata fatta l'altro giorno dai sindacali, delle associazioni, il 7 ottobre proprio con al centro la sanità, però nello stesso tempo, mentre si fa una grandissima e importante manifestazione o avanti il welfare contrattuale. Si fanno accordi nelle varie e nelle grandi categorie per dirottare una parte dei miglioramenti contrattuali sulle assicurazioni private e senza tasse. Questo è un aspetto, secondo me è una contraddizione. Il problema è come rilanciare la sanità pubblica, come rilanciare quella sanità che riguarda tutti i cittadini, non solo quelli che hanno la possibilità di poi di rivolgersi al privato, che hanno delle assicurazioni, ma tutti i cittadini. L'altro discorso è come funziona l'intramenia. Anche qui, non so se è una contraddizione, ma come vedo io, se da una parte io devo aspettare un anno per fare un esame e dall'altra parte mi dicono se paghi te lo faccio subito e quando paghi ci guadagna sia il personale sia la struttura, è evidente che non ci sono molti incentivi a migliorare la possibilità di lì essere attesa più brevi. Io la sto mettendo giù in un modo abbastanza semplicistico, poi mi affido alle relazioni di chi ne sa più di me. Però queste contraddizioni esistono e riguardano una buona parte dei cittadini e che si sta estendendo. Come diceva il dottor Prochaccini, veniamo da una situazione difficile. Io vado ancora più lontano. Nel 2008 c'è stata una crisi economica, poi c'è stata una pandemia, poi c'è stata una guerra, ora c'è un'altra guerra. Tutto questo determina una situazione di incertezza, di insicurezza per ciò che riguarda i cittadini e soprattutto la parte più svantaggiata dei cittadini. Rispetto alla sanità, ho letto dei dati, noi spendiamo 4.500 euro per cittadino, in Germania ne spendono 8.000, in Francia 6.500. È evidente che sono paesi più ricchi, però la dice lunga questo sull'importanza che diamo su come questa riforma importante civile del 1978 rischi di perdere colpi e rischi un po' di arenarsi. Questo è il pericolo che abbiamo di fronte. Oggi siamo qua per discutere alcune di queste cose. Il problema è come stanno le cose, come stanno le questioni più importanti. Abbiamo individuato il discorso delle liste di attesa, della telemedicina e della sanità territoriale, della riforma del DM77 del 2022, dove ci porterà a che punto è, come si sta realizzando o come non si sta realizzando questa riforma, che tempi ci saranno, cosa significherà per i cittadini. Ecco, come stanno le cose, come si evolvono le questioni, cosa si può fare per migliorare, come coinvolgere i cittadini, come realizzare una sorta di alleanza fra cittadini, anche farmacie, strutture sanitarie, regioni che sono quelle che spendono l'80% del loro bilancio per il sistema sanitario. Come coinvolgerli i cittadini? Come informarli? Perché da quello che sento, che vedo, che abbiamo visto, una parte non conosce neanche bene quali sono i propri diritti, quali sono le cose che possono fare. In un sistema pure che ha delle difficoltà, potrebbero rivendicare, potrebbero proporre delle soluzioni, potrebbero chiedere di avere delle prestazioni che non conoscono. Già nelle liste di attesa, nella scala delle liste di attesa, se non mi sbaglio, c'è il discorso dell'urgenza, del riferito, eccetera. Non so se tutti le sanno queste cose, che uno può avere diritto ad avere una prestazione a seconda del tipo di... Quindi c'è un problema di informazione, forse di formazione, di coinvolgimento, di lavorare insieme. Ecco, noi, Consumer Forum è un momento in cui si approfondiscono le questioni, non si fanno polemiche, non si fanno nessun tipo di manifestazione. Però vogliamo approfondire le questioni e vedere in che modo i cittadini e le imprese e le istituzioni possano collaborare. Perché senza questa... se non si realizza questo aspetto, è evidente che non andiamo avanti, ma non stiamo neanche fermi, andiamo indietro. È come uno che va in bicicletta in salita, o vai avanti, oppure stiamo andando indietro. È pericolosamente indietro. Però può darsi che io sia pessimista. Ho sentito già qualche affermazione che mi dice il contrario. La donnazonesa sorride perché... Quindi io sono contento, siamo contenti di apprendere da voi che siete più esperti e più bravi e che studiate queste questioni, come stanno le cose, cosa ci aspetta e cosa fare. Grazie a tutti di nuovo. Adesso iniziamo la discussione con due rappresentanti delle associazioni. La dottoressa Anna Lisa Mandorino, segretario generale di Cittadinanza Attiva e poi Roberto Giordano di Feder Consumatori. Come ho detto prima? Sì. Dopo è qui? Anna Lisa è una grande esperta. Cittadinanza Attiva nasce come associazione che si occupa della sanità, Tribunale del diritto del malato, e poi ci espande in altri settori. Hanno fatto da poco una importante ricerca, iniziativa proprio sulle liste di attesa e quindi lascio la parola a lei che è bravissima e si prenderà questi 20 minuti che le aspettano. 20 minuti ci vuol dire tutti. 20 minuti? 20 minuti, no? Allora, grazie a tutti, buongiorno e grazie di questa occasione, come diceva Sergio, soprattutto un'occasione di confronto. Sì, effettivamente Cittadinanza Attiva nasce nel 1978 e noi questo lo ricordiamo sempre perché è un po' come essere segnati dalla storia del Servizio Sanitario Nazionale. Siamo nati contemporaneamente al Servizio Sanitario Nazionale, pur nascendo con un'idea più ampia, quella di un protagonismo più diffuso dei cittadini, di una loro partecipazione più consapevole. Però questa idea fin da subito l'abbiamo applicata un po' all'ambito della sanità pubblica, appunto del Servizio Sanitario nascente, perché di una cosa ci siamo resi conto fin dall'inizio e cioè che se non ci fossero stati i cittadini a proteggere il Servizio Sanitario, probabilmente il Servizio Sanitario non avrebbe avuto una vita così lunga e così importante per l'infrastrutturazione sociale del nostro Paese come invece ha avuto. Questo lo dico ovviamente non con riferimento a cittadinanza attiva come organizzazione, quindi come nome proprio, ma a tutte le associazioni di cittadini e poi in particolare anche di pazienti che sono nate a difesa del Servizio Sanitario Nazionale, proprio intravedendo la centralità che il Servizio Sanitario Nazionale ha e avrebbe avuto in quegli anni, insomma avrebbe avuto per la vita del nostro Paese. Perciò, Sergio, una cosa che vorrei dire in premessa, perché ci tengo moltissimo a dirla e penso che sia la cosa che più vada ripetuta in tutti i contesti in questo momento. Noi dobbiamo evitare la profezia che si autoavvera, cioè dobbiamo evitare di pensare che il Servizio Sanitario Nazionale sia finito o che stia, diciamo, esalando i suoi ultimi respiri. Questo è fondamentale perché tu parlavi prima di disuguaglianze, no? Le disuguaglianze non sono l'esito ineluttabile del destino, sono il frutto di scelte di politica pubblica. Quando si crea una disuguaglianza è perché si è fatta una scelta in una direzione o in un'altra. Quindi il Servizio Sanitario Nazionale va rimesso al centro delle politiche pubbliche da tutti i punti di vista e va protetto perché non è stato, ma è un'infrastruttura sociale, forse l'infrastruttura sociale è insieme con la scuola più importante per la crescita e lo sviluppo del nostro Paese. Il periodo della pandemia, tra l'altro, ce l'ha dimostrato ampiamente, ma su questo vado veloce perché non c'è bisogno che lo dica io, insomma. Siccome il mio intervento mette al centro ovviamente il punto di vista del cittadino, su questo voglio subito fare una specifica. Noi non pensiamo di rappresentare i cittadini tutti, diciamo. Quando diciamo di rappresentare il punto di vista del cittadino e perché vogliamo fare un'operazione particolare, cioè provare a guardare la realtà, le politiche, i servizi dal punto di vista e cioè col punto di osservazione che può avere un cittadino. Un punto di osservazione che è peculiare ed irriducibile, cioè nessun altro può avere quel punto di vista e questo determina il fatto che quel punto di vista va considerato centrale anche per la progettazione e la programmazione delle politiche pubbliche, perché senza quel punto di vista si rischierebbe di prendere delle cantonate. Allora, di solito nel nostro paese c'è sempre l'immagine del cittadino un po' come un bimbo, no? Anche la comunicazione pubblica spesso tratta il cittadino come se fosse una persona ancora da emancipare. Lo abbiamo visto nel periodo della pandemia, insomma, la comunicazione è stata o paternalistica oppure negazionista con tutti gli estremi che questo ha comportato. Invece i cittadini, non devo dirlo in questo contesto, visto che la maggior parte di noi crediamo fermamente in questa idea, sono estremamente consapevoli, altrimenti non mi spiegherei perché già prima della pandemia, quando si rivolgevano ai nostri servizi di tutela, mettevano in evidenza fondamentalmente due debolezze della sanità pubblica. Una, una crescente difficoltà di accesso e significava accesso in termini di tempi, quindi il famoso problema delle liste d'attesa su cui poi concluderò un pochino il mio intervento, forse anche in termini un po' provocatori, e uno in termini di costi, perché effettivamente come tu dicevi è ben strano che in un paese come il nostro, che ha una sanità costituzionalmente definita eco, universale, uguale, poi ci sia tanto contributo di spesa privata dei cittadini nella forma del cosiddetto out of pocket, cioè di quel denaro che i cittadini mettono di tasca propria. Quindi c'era già prima della pandemia, nelle segnalazioni che ricevevamo, una lucidità, diciamo, del punto di vista dei cittadini quando ci segnalavano il problema della sanità e tendevano a identificarlo con questi due elementi di criticità. Il tema dell'accesso e l'altro era il tema che poi nella pandemia si è rivelato centrale, anche diventato centrale anche nel dibattito pubblico e persino nell'agenda pubblica, e cioè il tema dell'assistenza territoriale e del fatto, cioè tradotto, che in modo diffuso a parte l'ospedale non ci fossero, non ci siano tuttora, perché da allora c'è un processo sicuramente di implementazione di alcune leggi, ma nulla ancora è cambiato effettivamente nella sostanza, non ci siano servizi territoriali in grado di accompagnare il percorso di cura e di assistenza al cittadino una volta uscito o fuori dal perimetro dell'ospedale. sul periodo della pandemia vado un po' veloce, perché ne abbiamo parlato tanto, secondo me è stato detto veramente tutto quello che si poteva dire su questo periodo, vado invece un po' all'oggi, cioè al post pandemia. Cosa ci segnalano ora i cittadini? Nell'ultimo rapporto di cittadinanza attiva che trovate in cartellina, si chiama Urgenza Sanità, è venuto fuori, anche questa volta con estrema lucidità dal mio punto di vista, insomma a mio parere, che i cittadini hanno chiaro che è vero, come ho detto, che la deprivazione di servizi sul territorio è una grande criticità, ma è altrettanto vero che se la batte in maniera abbastanza equilibrata con la debolezza dell'ospedale in questo momento e con la debolezza della prevenzione. Cioè i cittadini, se vedete i dati del rapporto, sono stati capaci, diciamo così, di fotografare una situazione di estremo equilibrio nella criticità tra i tre ambiti in cui si articola il Servizio Sanitario Nazionale, poi sono anche gli ambiti di riferimento dei livelli essenziali di assistenza, e cioè l'ospedale, il territorio e la prevenzione. E hanno messo in evidenza che, sebbene i servizi territoriali restino, come dicevamo, sguarniti, non è che le altre cose, e in particolare la prevenzione e gli ospedali vadano meglio. E questo è importante perché abbatte, diciamo, anche una serie di luoghi comuni che forse sentiamo ripetere molto spesso e che con i dieci minuti circa di intervento che mi rimangano vorrei sfatare. Allora, il primo luogo comune che voglio sfatare, lo diceva già Sergio, è la questione, e sempre si ripete, che la sanità e il welfare sono una spesa nel nostro paese. Lo vorrei sfatare non soltanto riprendendo quello che poi si dice anche molto a modi slogan che non sono una spesa ma un investimento, e questo sì, lo condividiamo tutti. Lo voglio sfatare in senso contrario. Non solo la sanità e il welfare non sono stati una spesa per il nostro paese negli ultimi vent'anni, ma anzi hanno costituito un ottimo sistema per rientrare dei conti. Sono stati un ottimo contributo che i cittadini italiani e le cittadine italiane hanno dato al contenimento della spesa pubblica. Tutti i tagli che ci sono stati o i mancati investimenti che ci sono stati negli ultimi vent'anni hanno contribuito a tenere sotto controllo la spesa pubblica e hanno contribuito a tenerla sotto controllo in un modo anche molto, permettetemi di usare questa parola, violento, perché i piani di rientro, ricordate la narrazione delle regioni canaglia e i tetti di spesa, sono un modo violento per tenere sotto controllo la spesa, nel senso che sono un modo che non guarda alle differenze, non guarda ai bisogni, non guarda neanche alle risorse di un territorio o di un gruppo di cittadini rispetto a un altro, ma procede con una logica da scure, con una logica quantomeno, per moderare i toni che poi, sennò le parole diventano troppo aggressive, è una logica aritmetica. Se ci pensate lo Stato che spesso dice, c'è la questione del potere concorrente sulla tematica sanitaria, le istituzioni centrali che spesso dicono che non possiamo intervenire sulle regioni perché la sanità è tutela concorrente, nel caso dei piani di rientro invece hanno avuto un pugno duro nell'intervento con le regioni e non ci sono state molte sfumature nell'applicazione dei piani di rientro. Quindi non solo non è vero che la sanità e il welfare non sono una spesa perché sono un investimento, ma è vero proprio il contrario, cioè hanno dato un contributo forte al contenimento della spesa pubblica e lo hanno fatto ovviamente incidendo profondamente sul diritto alle cure e questo non lo diciamo noi associazioni dei cittadini, delle cittadine, dei consumatori che potremmo sembrare un po' di parte, è arrivato a dirlo la Corte dei Conti che diciamo dal punto di vista della mission, della missione istituzionale è quella che dovrebbe appunto stare attenta ai conti e invece a un certo punto nelle sue relazioni annuali da un po' di anni, se voi andate a leggere appena uscita una nuova relazione della Corte dei Conti, sottolinea quanto questa logica un po' aritmetica di applicare la riduzione della spesa nel welfare della sanità e poi abbia avuto come conseguenza la riduzione del perimetro dei diritti. Allora un altro luogo comune che vorrei sfatare è quello che dicevo prima, il tema che abbiamo sentito molto durante la pandemia è della logica ospedalocentrica, si è usata questa espressione, e non perché non esista un problema legato alla deprivazione dei servizi territoriali, se pensate per esempio che da alcuni anni, credo dal 2012 circa, c'è una politica che guarda alle aree interne del nostro paese e le definisce proprio in relazione alla deprivazione dei servizi, quindi non voglio dire che un problema di sanità e di servizi territoriali non esista, voglio solo dire che la parola, l'uso dell'espressione ospedalocentrico farebbe pensare che tutto l'investimento è avvenuto a beneficio degli ospedali e in questo modo ed è per questo che poi i servizi territoriali ne hanno avuto un detrimento. A nostro parere, e lo dico raccogliendo le segnalazioni dei cittadini come vi dicevo prima, non è così, non è che il fatto di non aver investito sul territorio ha significato aver investito sugli ospedali, coerentemente a quello che citavo nel primo punto, cioè a un disinvestimento continuativo e importante, in realtà la sanità si è tutta indebolita, si è indebolito il fronte dei servizi territoriali perché non è mai stato particolarmente forte e sicuramente è debolissima la prevenzione che rappresenta ancora un'area di spesa residuale per il nostro paese e oltre che di spesa perché poi non dobbiamo solo focalizzarci sulle risorse, se proprio di attenzione è tutto sommato ancora minoritaria, leggevo l'altro giorno delle statistiche che riguardano la diffusione delle malattie sessualmente trasmissibili o dell'HIV tra i giovani, diciamo campagne di prevenzione non ce ne sono in questo senso, quindi da questo punto di vista è difficile che poi uno acquisisca delle competenze se non ci sono delle istituzioni che possimo anche noi associazioni perché anche noi associazioni abbiamo un dovere in questo senso, una responsabilità in questo senso che se ne occupano e quindi poca attenzione per la prevenzione e poca attenzione anche per gli ospedali. E con questo passo a un terzo punto che vorrei un po' sfatare ma anche per essere un po' provocatoria rispetto al dibattito e dare anche qualche spunto di riflessione anche dialettico diciamo al nostro colloquio di oggi ed è il tema delle disuguaglianze perché è certamente vero che esistono delle fratture profonde tra alcune regioni e altre del nostro paese è innegabile, si traducono in termini addirittura di attesa di vita o di attesa di vita in buona salute questo lo dicono i dati, lo testimoniano da anni quindi è innegabile. È anche vero però che c'è un trend generale un orientamento generale al peggioramento dei servizi e non soltanto alla disuguaglianza nella qualità dei servizi, cioè non ci sono più regioni esenti da problemi in ambito sanitario. Lo dimostra il fatto che alcune categorie di operatori sanitari, per esempio quelli legati all'assistenza primaria, alla medicina di base, i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta sono delle figure che mancano di più nel nord del paese rispetto al sud. Altre poi vedono la situazione esattamente al contrario. Quello che voglio dire è che, la dico con una metafora brutta, non è che se si sta affogando chi affoga per ultimo è salvo. Affoghiamo tutti, diciamo. Quindi non guardare alla sanità come all'infrastruttura o una delle infrastrutture centrali non significa danneggiare soltanto alcune zone del paese, ma significa accompagnare un trend che in questo momento riguarda tutte le zone del nostro paese, perché tutte hanno luci e ombre. Certo, ce ne sono alcune in cui la sanità, per esempio, raggiunge punte di eccellenza importanti negli ospedali, ma questo non significa che poi sul territorio si traduca in esiti di forza altrettanto rilevanti e forse la pandemia da questo punto di vista delle cose ci ha insegnato. Quindi quando parliamo di desertificazione dei servizi sanitari, inteso come carenza di servizi e carenza degli operatori sanitari, stiamo parlando di un problema che ormai riguarda anche l'Europa, devo dire, perché noi ce ne occupiamo anche in ambito europeo di questo tema, ma le regioni in maniera abbastanza diffusa. È ovvio, paghiamo lo scotto di disuguaglianze che sono importanti soprattutto in alcune regioni, ma se vedete il nuovo sistema di rilevazione di ELEA, vi accorgerete che le regioni che sono a posto rispetto ai livelli essenziali di assistenza sono sempre di meno e non sempre di più come dovrebbe essere. Ok, mi restano pochi minuti. Liste di attesa. Esatto. Allora, sulle liste d'attesa io vorrei dire una cosa anche qui un po' provocatorie. Allora, come cittadinanza attiva ci occupiamo tantissimo delle liste d'attesa e le monitoriamo costantemente. L'ultimo monitoraggio a cui facevi riferimento risale a prima dell'estate, ma già ne abbiamo in atto un altro e francamente sono monitoraggi che ci restituiscono dati anche un po' prevedibili, ecco, per quanto drammatici e di solito i mezzi di comunicazione sono interessati alle punte estreme di questi dati, quindi ai famosi due anni necessari per una mammografia di controllo ancora di più. Sono dati che dimostrano anche in questo caso che ci sono delle differenze tra le regioni, ma sono dati in peggioramento ovunque. Per esempio, l'ultima rilevazione che abbiamo fatto ha trovato la Puglia in condizioni abbastanza drammatiche rispetto a quella cadenza dei tempi a cui tu facevi riferimento, alle prestazioni urgenti, quelle differibili, quelle programmabili, eccetera. Ma ha trovato anche un'Emilia Romagna, sebbene ovviamente in una situazione assoluta, molto migliore, in una situazione relativa rispetto a se stessa negli anni precedenti peggiorata. Quindi, da questo punto di vista sono anche dati abbastanza prevedibili, che si concrociano tra l'altro col tema dell'intramenia. Sull'intramenia abbiamo fatto invece un'altra operazione, perché il problema dell'intramenia è che divide e spacca, come spesso accade ormai nel dibattito pubblico, i fronti in due poli completamente opposti. C'è chi dice che l'intramenia non c'entra nulla con le liste d'attesa, non ha nessuna conseguenza diretta con le liste d'attesa, non le determina né è correlata con le liste d'attesa e c'è chi dice no. La causa maggiore in assoluto delle liste d'attesa è il tema dell'intramenia. In realtà, quello che emerge anche dal lavoro che abbiamo fatto nel luglio 2023 è che non ci sono dati su questa intramenia, a tal punto che noi siamo stati costretti a fare, a ricorrere a uno strumento che, devo dire, utilizziamo abbastanza sistematicamente, perché in Italia abbiamo una legislazione avanzatissima in fatto di trasparenza che fa riferimento alla normativa internazionale, al Freedom of Information Act, quindi diciamo alla massima apertura in fatto di dati che però non utilizziamo molto. L'accesso civico è uno strumento che noi tutti conosciamo, che ci permette di avere accesso a tutte le informazioni pubbliche e noi che abbiamo fatto? Abbiamo fatto una richiesta a tutte le regioni affinché ci dicessero come sono messe con l'intramenia. Ovviamente anche su questo la cosa che vi posso dire in sintesi che emerge è che tra una regione e l'altra ci sono differenze enormi, ci sono regioni che sono apposto nel rapporto tra prestazioni pubbliche e prestazioni erogate in regime di intramenia, rapporto che stabilisce ormai la norma perché c'è un piano di governo delle liste d'attesa che mette in equilibrio queste due forme di prestazioni dicendo che l'intramenia non deve superare le prestazioni erogate in regime di sanità pubblica, altrimenti deve essere sospesa l'intramenia e ci sono regioni che invece presentano da questo punto di vista una situazione paradossale. Per esempio noi abbiamo appena diffidato la regione Campania perché in Campania delle prestazioni che noi siamo andati sulle quali abbiamo fatto l'accesso agli atti che erano 6, non c'è una sola prestazione in cui la sanità pubblica è in grado di erogare nei tempi previsti dal piano e dalle leggi le prestazioni e si ricorre invece sistematicamente all'intramenia ma in un modo abnorme, nel senso che esistono strutture ospedaliene nelle quali non esiste, non viene erogata nessuna prestazione, per esempio ecografia addominale in regime pubblico e invece vengono erogate tutte in regime di intramenia. Allora che cosa abbiamo capito sulla base di questa ricerca di là dei numeri? Che l'intramenia, si parla sempre del pronto soccorso in questo senso, che anche l'intramenia è diventata per i cittadini una porta d'accesso alla sanità pubblica, cioè che in alcune zone del nostro paese si ricorre alla visita o alla prestazione in intramenia per riuscire a entrare in contatto con il medico, con l'operatore, con la struttura pubblica e sperare poi di avere un percorso facilitato, posso dire così senza grande ipocrisia, all'interno della struttura pubblica ed è questo il problema. Non quanto ci si guadagna dall'intramenia, ma come viene utilizzata, cioè in modo abnorme, un istituto che se fosse diciamo perimetrato all'interno del suo spazio, che è quello che prevede la norma, tutto sommato non sarebbe sicuramente la causa delle liste d'attesa. Sulle liste d'attesa voglio concludere dicendo che a nostro parere le liste d'attesa semplicemente non hanno ragione di esistere, ma non soltanto perché vanno ridotte ed eliminate, ma perché il significato stesso dell'attesa nella prestazione sanitaria, anzi nel percorso di cura del cittadino, perché forse il problema è che si ha troppo in mente la prestazione, nel percorso di cura del cittadino è un non senso, cioè l'attesa è legata alla possibilità che il percorso di cura avvenga in certi tempi oppure in altri. Se c'è urgenza, se c'è emergenza, non ci può essere attesa, viceversa se c'è la possibilità di programmare con un tempo più ampio il percorso di cura, anche in quel caso la lista d'attesa è un non senso, perché a quel punto si tratta soltanto di una programmazione più lunga. Io penso che noi tutti che ci occupiamo di sanità, questo sforzo dobbiamo provare a farlo, per riorientare la salute dei cittadini, i bisogni di salute dei cittadini da un elenco di prestazioni in percorsi di cura, che ovviamente sono ritagliati sui bisogni e in quel caso, ripeto, il concetto d'attesa non diventa un concetto privo di senso. Per concludere, io penso che siano indispensabili tre cose sulle quali bisogna davvero chiedere un cambio di rotta. Uno è il tema delle risorse anche economiche, in dubbio, non ne parlo perché lo doffo scontato. È chiaro che poi il rapporto col PIL è un rapporto un po' delicato, perché è che se il PIL diminuisce, avere una percentuale alta di PIL non ci garantisce proprio nulla, in termini assoluti si potrebbe trattare anche di una cifra minore rispetto a quella dell'anno precedente. Quindi purtroppo, considerato il PIL del nostro Paese, gli ondeggiamenti del PIL del nostro Paese non è una cosa che rassicura particolarmente, però il tema delle risorse è centrale. Se la sanità l'abbiamo ridotta così perché abbiamo disinvestito, è logico e se la vogliamo riportare un po' su bisogna investire nuovamente. Però non basta, bisogna tener conto anche in questo momento delle condizioni da cui si parte, altrimenti succede come sta succedendo per il PIL di ripresa e resilienza. Si pensa che siamo tutti sulla stessa velocità e così non è. Bisogna rimuovere degli ostacoli che ci sono in partenza, cioè per garantire l'uguaglianza bisogna rimuovere gli ostacoli che ormai caratterizzano alcune situazioni in partenza. E forse fare un patto nuovo tra lo Stato e le regioni perché non si può sempre arrivare al momento della conferenza Stato-Regioni e negoziare sui fondi senza avere una strategia comune. Se la salute è in materia di tutela concorrente, la concorrenza deve essere nel garantire l'interesse generale, non nel garantire ciascuno, istituzioni centrali, istituzioni regionali, un po' il proprio punto di vista, il proprio braccio di ferro. Quindi ci dovrebbe essere davvero un grande patto tra Stato e regioni. E infine ovviamente non posso non fare un riferimento al tema della partecipazione dei cittadini, partecipazione nei processi di decisione ma non solo perché le norme poi spesso rimangono sulla carta, quindi non sono l'unico strumento per il cambiamento della realtà, partecipazione inteso come ascolto delle voci delle cittadine, dei cittadini delle comunità e per esempio quello che è mancato nel piano nazionale di ripresa e resilienza ma che siamo ancora in tempo a recuperare. Come quel piano, come il DM77 vada implementato nelle comunità, nei territori non lo si può decidere in astratto sulla base di un modello disegnato appunto con tutta la sua bontà a tavolino ma va accalato nelle singole realtà e nei singoli contesti che sono profondamente diversi e anche, lo ripeto, infine va accalato non solo sui bisogni delle persone ma anche sulle loro risorse che sono tante e potrebbero essere messe a frutto per migliorare il servizio sanitario nazionale e non ultimo in tema per esempio di stili di vita, di prevenzione, di attenzione alla promozione della salute di tutti e in particolare dei giovani a cui mando un ultimo pensiero. Grazie. Grazie Annalisa, questa relazione è interessantissima e anche un po' dura, non mi aspettavo da voi di cittadinanza questa durezza, questa è la decima. Non ci frequenti abbastanza. Anche le parole che ha usato sono parole che hanno un po' chiarito delle cose ma anche dure, quindi grazie, grazie anche per la contretessa. Ora, la parola a Roberto Ilozzani, vicepresidente della Fede del Consonatore. Seguidiamo a vedere le cose che non vanno, poi cominciamo gli interventi delle istituzioni. Grazie, io necessariamente avendo ascoltato anche l'intervento della dottoressa Mandorino, ma anche l'introduzione di Sergio, per agevolarmi, mi sono scritto la relazione, ma insomma se dovessimo individuare la cifra dominante del nostro tempo, io non ho dubbi che dovremmo riferirci necessariamente alle crescenti disuguaglianze sociali, economiche e anche ambientali. Quelli stessi che la pandemia ci ha costretto in qualche misura a guardare con occhio sempre più critico e attento. Purtroppo però il nostro tempo ci consegna anche una memoria breve, molto breve, troppo a volte. Infatti sembrano passati secoli da quando celebravamo l'importanza del nostro servizio sanitario internazionale, anche disponendo finanziamenti aggiuntivi per far fronte all'emergenza e santificando quasi il lavoro di medici e infermieri. Bene, tutto passato. Tuttavia quando parliamo di disuguaglianze, visto che siamo tornati molto su questo termine, non ci riferiamo però a un'enunciazione generale o generica, ma parliamo delle statistiche relative a livello di povertà, relative assoluta, registrate nel nostro Paese, alle condizioni di milioni di persone che già durante la pandemia hanno rinunciato alle cure e che pure ora, per via delle proprie condizioni di disagio economico e sociale, non si curano più. Si è detto in precedenza, sono stimato in circa 4 milioni. Nel 2021 circa 5,6 milioni di individui, ossia il 9,4% della popolazione, versavano in condizioni di povertà assoluta e nel 2020 circa 8 milioni di persone, ossia il 13,5% della popolazione, erano considerati in povertà relative. Se sommassimo questi due dati avremmo una percentuale a rischio di esclusione sociale particolarmente preoccupante, circa il 23%, soprattutto se allargassimo il nostro ragionamento al progressivo invecchiamento della popolazione. Nel 2001 gli over 65 costituivano il 16% del totale, cioè 7,4 milioni di persone. Nel 2020 la percentuale sale al 21%, 12 milioni e mezzo. Considerato che l'incremento della popolazione over 65, che consegna un aumento delle cronicità, malattie pneumologiche, radiovascolari, onatologiche, diabete, eccetera, 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 le valutazioni che ne conseguono rispetto all'impatto sull'intero sistema sono evidenti. Abbiamo voluto rimarcare i dati relativi alla proprietà e all'invecchiamento, che naturalmente voglio sottolineare non sono dati sommabili fra loro, perché stanno a indicare in ogni caso la necessità di un impegno maggiore proprio nell'ambito socio-sanitario da parte del governo, a partire dalle risorse economiche da mettere a disposizione, comprese quelle già previste in origine dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienze. La nota di aggiornamento del documento di economia e finanze 2023, dieci giorni fa, viceversa conferma e in parte aggrava i tagli al finanziamento della spesa sanitaria in rapporto al PIL, che difficilmente possono essere resi compatibili con le criticità appena accennate. La percentuale di risorse destinate alla spesa sanitaria passa dal 7,1% del 2021 al 6,1% del 2026. Un decremento preoccupante, soprattutto se visto il rapporto da alcuni paesi europei come la Francia e il Germania, lo stesso Regno Unito, dove la percentuale di risorse destinata al finanziamento della sanità pubblica è pari, sempre rispetto al PIL, al 10,1%, 19,9% e 3%. Ma più in generale, se facciamo un confronto con tutti gli altri paesi europei, nella classifica risultiamo soltanto quindicesimi. Allargando la nostra visuale alla spesa sociale, con esclusione ovviamente della componente previdenziale, il quadro rischia di essere ulteriormente preoccupante. Sempre prendendo riferimento alla spesa del rapporto al PIL, consegnatoci dalla Nadef, la percentuale per prestazioni sociali passa dal 5,6% del 2022 al 5,2% del 2023, per declinare nel successivo triennio progressivamente fino al 4,9%. Se questi numeri non fossero sufficientemente eloquenti, potremmo chiamare in soccorso quanto contenuto nel documento della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome, per l'audizione al Senato sulle forme integrative di previdenza e assistenza sanitaria, dove si afferma, cito testualmente, che la sostenibilità economico-finanziare dei bilanci sanitari regionali è fortemente compromessa dall'insufficiente livello di finanziamento del Servizio Sanitario nazionale. E ancora, a questo si aggiungono le gravi problematiche che riguardano il fabbisogno di personale, dipendente e convenzionato, le cui carenze hanno raggiunto un livello di criticità ormai insostenibile e trasversale a molteplici settori e servizi sanitari. E infine, è necessario riportare la salute al centro dell'agenda politica, quello di cui parlavamo prima, e rafforzare stabilmente il finanziamento sanitario pubblico al fine di allinearlo alla media dei Paesi europei, a partire dalla previsione di una percentuale minima del rapporto tra la spesa sanitaria ed il prodotto interno nord, conferenza Stato-Regione, in misura pari almeno al 7%. Dunque sembra confermarsi quanto affermato in precedenza, cioè che il primo punto all'ordine del giorno, per qualsivoglia governo, è o dovrebbe essere quello di un adeguato finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, in quanto garanzia della piena attuazione dei principi di uguaglianza e universalità, oltre che di gratuità, garantiti dalla nostra Costituzione. Ma il documento della conferenza citato ci è di conforto anche per un'altra valutazione aggiuntiva, che ormai ha l'attenzione pubblica da diverso tempo, vedi gli studi della Fondazione Gimbe in proposito, ossia quello dell'apporto fra sanità pubblica e privata. Anche questo è un argomento già accennato. Morendo dalla registrazione della spesa cosiddetta out of pocket e quella della sanità integrativa, pari a circa 40 miliardi di euro nel 2021, corrispondente al 25% della spesa sanitaria complessiva, l'elaborazione della conferenza giunge alla conclusione che, e può sembrare anche banale, maggiore la capacità della sanità pubblica di erogare le prestazioni ricomprese nei livelli essenziali di assistenza in modo tempestivo ed uniforme a livello nazionale, minore l'esigenza di ricorrere a queste forme integrative. Tale conclusione, difficilmente controvertibile, ci interroga in modo impegnativo cerca la reale capacità del Servizio Sanitario Nazionale di rendere esigibili i diritti sanciti dalla nostra Costituzione, definiti più nel dettaglio dalle normative che pure recentemente hanno regolato il funzionamento della sanità a diversi livelli. Soprattutto rende evidente che si rischia di scivolare verso una sanità a base censitaria e non più universalistica, in quanto si spostano progressivamente più risorse dalla sanità pubblica a quella privata, convenzionata e non, e si allarga sempre più la forbice fra coloro che possono permettersi di impiegare parte del proprio reddito per curarsi e chi viceversa è costretto a rinunciare alle cure, come dicevamo, più sopra. Non si tratta naturalmente in questa sede di avviare una discussione sul loro dell'assistenza sanitaria privata integrativa, polizia sanitaria, foglie, eccetera, eccetera, bensì di sottolineare sommessamente quanto definito dal decreto legislativo 502 del 92 in merito, ossia che essa in ogni caso deve essere sempre indirizzata al potenziamento delle erogazioni di prestazioni e trattamenti non ricompresi nei LEA, quindi realmente integrativa e non sostitutiva. Siamo di fronte dunque ad un modello che, seppure sulla carta è delineato secondo i principi di garanzia costituzionale, sta perdendo progressivamente la sua unitarietà e quindi la sua universalità. Dalla riforma del già citato decreto legislativo 502 a quella del titolo quinto della Costituzione del 2001, si è passati da un processo di regionalizzazione sanitaria ad una vera e propria legislazione concorrente. Lo Stato determina i livelli essenziali di assistenza, ILEA. Le regioni hanno competenza esclusiva nella regolamentazione e organizzazione dei servizi sanitari nel finanziamento delle aziende sanitarie. Da ultimo si aggiunge ora il progetto della cosiddetta autonomia differenziata, che assisterebbe un'ulteriore colpa ai principi di uguaglianza, universalità e graduità già citati, anche perché l'elemento solidaristico verrebbe ulteriormente frantumato e giocoforza si acquirebbero le già evidenti disuguaglianze citate, alle quali aggiungere anche quelle territoriali già fortemente presenti. Senza dilungarci su questo, ti rimanda l'ottimo articolo di Stefano Simonetti sull'inserto del sole 24 ore del 6 febbraio 2023, assai più drastico e impietoso nonché dettagliato di quanto siamo stati noi sull'argomento. Infine, anche se la disamina potrebbe essere ancora lunga, non possiamo sorvolare su un tema centrale come quello del tetto di spesa per il personale sanitario. È di tutta evidenza, infatti, che il blocco del turnover, che il turnover ha avuto nel passato più o meno recente, sui carichi di lavoro del personale sanitario e tutti, e di conseguenza anche sulla qualità delle prestazioni erogate, è uno dei determinanti del funzionamento del Servizio Sanitario Nazionale. E la carenza di personale riguarda tutte le categorie, tutti i professionisti, gli amministrativi, i tecnici, con una preoccupante evidenza per la categoria degli infermieri che tanto abbiamo osannato durante la pandemia. Abbiamo voluto evidenziare le criticità legate al definanziamento progressivo del Servizio Sanitario Nazionale, non per elencare le tradizionali doglianze, bensì per evidenziare la criticità più macroscopica legata alla sanità e al suo funzionamento. Ciò detto, il mondo della sanità frammentata, come dicevamo, in tante sanità per quante sono le regioni e le province autonome, deve essere letto nella sua complessità, è inteso come un insieme di tessere che compongono l'intero mosaico. C'è un intervento legislativo e regolamentare, ormai molto stratificato, che tuttavia anche quando reca con sé approcci riformatori apprezzabili, non sempre riesce a trovare la piena esplicazione nelle risposte da dare alle persone proprio per mancanza di risorse adeguate. Basti pensare anche al progetto di cui abbiamo anche accennato oggi, del DM 77 del 2022, che pure contiene un'idea di fondo apprezzabile, un servizio sanitario che prova a conquistare una relazione organica fra diversi attori e strutture che lo compongono, rispetto al quale l'ufficio parlamentare di bilancio ha messo in evidenza diverse perplessità attualizzate, legate proprio all'incertezza e onerosità dei finanziamenti. Negli ultimi anni, afferma l'UPB, lo spostamento delle cure dal livello ospedaliero a quello territoriale ha rappresentato una delle politiche più diffuse nei paesi europei per migliorare i servizi sanitari. In Italia però il ridimensionamento della capacità degli ospedali, peraltro già bassa rispetto agli altri paesi, non è stato accompagnato da un adeguato rafforzamento della sanità territoriale, con carenze più evidenti in alcune regioni rispetto ad altri. I 7 miliardi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, distribuiti fra case della comunità, ospedali di comunità, assistenza domiciliare, destinati a in parte consistente già attribuiti a regioni e province autonome, costituiscono sicuramente una forte gestione di risorse, fondamentale per l'avvio della riforma della sanità territoriale. Ciò nonostante, secondo l'UPB, ancora permangono criticità intorno a tre elementi centrali. La necessità di reperire a regime la risorsa adeguata al finanziamento della sanità territoriale, pensiamo all'assistenza domiciliare e gli ospedali di comunità, il ruolo effettivo dei medici di medicina generale, sembrando accantonato pari il progetto di incardinarli come dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, il rapporto fra il nuovo regolamento dell'assistenza sanitaria territoriale e gli interventi normativi relativi alla modifica del modello istituzionale di cui parlavamo, lo spazio che assumerà il mercato privato. Probabilmente ci siamo dilungati più del dovuto, ma ciò nonostante abbiamo solo sfiorato alcuni fra i temi più rilevanti che caratterizzano il nostro servizio sanitario nazionale. Ma questo ci è servito, crediamo, per chiudere con la questione sulla quale da tempo ci stiamo interrogando, provando a comprendere le problematiche, criticità e possibili soluzioni, quella delle liste di attese. Il problema del governo delle liste di attese e del loro abbattimento è una delle costanti nelle discussioni e le vendicazioni in tema di sanità, perché se è vero che il Servizio Sanitario Nazionale è costruito come un sistema complesso multifunzionale e che esso deve garantire e rendere esigibili i principi di eguaglianza e universalità, soprattutto attraverso la garanzia dei livelli essenziali di assistenza, è altrettanto vero che tale garanzia deve necessariamente essere resa effettiva anche attraverso l'accesso alle prestazioni specialistiche, diagnostiche e a ricovera, con i modi e i tempi stabiliti da norme di legge e regolamentari. Ecco perché il governo delle liste di attesa diventa un punto nodale della nostra discussione. proprio per questo lo scorso giugno abbiamo lanciato come fede del consumatore all'interno dell'azione dedicata a tutela del diritto della salute la campagna Stop List di attesa per denunciare il fenomeno a crescere l'attenzione sociale, la sensibilità e il confronto, costruire risposte istituzionali ma fondamentalmente per accompagnare le persone e non soltanto i cittadini nei loro calvari sanitari, dentro cui manca la conoscenza e la consapevolezza di essere portatori del diritto a percorsi di tutela, in caso di inadempimento aziendale dei tempi massimi di attesa previsti dal piano nazionale di governo delle liste. In tale direzione, avvalendoci dalla nostra rete regionale di referenti delle politiche della salute, abbiamo promosso una diffusa campagna di informazioni, conferenze stampa, comunicati congiunti, eccetera, eccetera. E per rafforzare tale azione abbiamo ritenuto fosse complementare dotarci di uno studio aggiornato e testato sul campo, un po' un lavoro anche se diverso che ha fatto Cittadinanza Attiva, che superasse dati parziali, frammentati, datati, privi di un denominatore comune nazionale che consentisse di offrirci il polso reale di un fenomeno del quale manca un monitoraggio istituzionale nazionale. Così abbiamo avviato un monitoraggio che si è concluso da poco e di cui è in corso l'elaborazione dei dati, che renderemo quanto prima pubblici. Numerosi gli accessi agli atti presentati, anche questo si dice in presenza, per poter disporre dei dati di tempi di attesa, alla data individuata come periodo da monitorare. Di fatto abbiamo campionato tutte le regioni, le due province autonome di Trent e Bolzano. Per ogni realtà abbiamo raccolti i dati di due aziende sanitarie, la campione di un'azienda ospedaliera. Quello che posso anticipare è la mancanza di trasparenza che sovrintende a un fenomeno che diversamente dovrebbe essere improntato alla chiarezza e alla rigore dell'informazione verso i cittadini, considerato che sono costretti a cura, a pagamento ogni qual volta si registrano ritardi nell'erogazione delle prestazioni. Ancora troppo pochi i siti regionali e le aziende sanitarie che rendicontano puntualmente ed efficacemente sullo stato delle liste d'attesa. Criteri di forme fra aziende e per regione. Un quadro davvero grave di inadempienze, riteniamo, agli obblighi del piano nazionale di governo delle liste d'attesa, recepiti da tempo a livello regionale ed aziendale, verso cui servono risposte precise e cogenti. Se da una parte agiscono sul fenomeno delle liste d'attesa il quadro di taglia al fondo sanitario, di carenza di personale, di vetustà e sottotilizzo della strumentazione sanitaria, è altrettanto vera che va condotta a modello uniforme la rendicontazione del monitoraggio delle liste di attesa, obbligando regioni ed aziende ad adottare parametri e chieriteri di misurazione univoci. In tale quadro, riteniamo, debba essere contestualizzato al meglio il ruolo dell'osservatore nazionale, allargata alla partecipazione di altre associazioni, ridefinite regole e vincoli con gente per le aziende inadempienti all'obbligo della trasparenza delle liste d'attesa. Utilizzate le risorse del piano nazionale di defesa e resilienza sulla digitalizzazione del PA per adeguare anche i supporti informatici regionali della sanità e darsi piattaforme informatiche comuni e per aiutare i cittadini a distrecarsi nella giungla dell'informazione sanitaria. È evidente che poi emerge anche tutto quello che attiene alla qualità della gestione organizzativa dell'intera rete, a cui afferisco una lista d'attesa. Dal medico prescrittore, si parla spesso della proprietà della prescrizione, al buon funzionamento dei CUP, fino all'allargamento dei tempi di utilizzo di spazi, mezzi e personale sanitario pubblico, arrestando la corsa all'attività intramurale e l'assegnazione di risorse sempre più cospicue verso il privato per concorrere all'abbattimento delle liste di attesa. Una sfida, come si può immaginare, non da poco, ma da cui passa la garanzia di accesso a cure pubbliche e universali, in una fase in cui crescono, come dicevamo in apertura, disuguaglianze e povertà. Una sfida per la quale sempre più si rende necessario il confronto tra tutti gli stakeholder, a cominciare dalle associazioni consumeristiche. Grazie. Grazie Roberto. Io chiamerei il dottore Antonio Fortino, direttore di Agenas. Si è parlato di sanità territoriale. Il problema è come stanno le cose e come staranno. Queste case della comunità sono un utapia? Qualcuno si sta facendo oppure no? Ieri che è stata una puntata di Reforce, non c'era una cosa positiva, che se te ne vanno a cercare, però non c'era un aspetto positivo che veniva detto. La realtà è multiforme. Buongiorno, grazie dell'invito e non sono il direttore di Agenas, che è il dottor Nanto Anna, sono il direttore del dipartimento sanitario di Agenas. Intanto vorrei dare la massima condivisione all'approccio che è emerso per questa prima parte della mattinata, cioè servizio sanitario nazionale è un bene di straordinaria importanza che dobbiamo non solo difendere, ma dobbiamo ulteriormente consolidare. E questa convinzione non è scontata nel momento in cui si fanno avanti molte forze anche e spingono verso la privatizzazione dei servizi. E la privatizzazione non ha funzionato in sanità, né a livello nazionale sappiamo come funziona o non funziona il sistema statunitense, ma anche a livello locale. Ci sono molte evidenze che la privatizzazione sembra una buona risposta, ma poi alla fine produce danni notevoli alla salute delle persone. Quindi bene pubblico, servizio sanitario bene pubblico. Ed è in questo che si inserisce la riforma dell'assistenza territoriale di cui noi Agenas siamo stati protagonisti insieme a tanti altri nella fase di scrittura e attualmente ricopriamo il ruolo di monitoraggio da un lato e di affiancamento all'attuazione per le regioni dall'altro. E di questo vi vorrei parlare, di questi due aspetti. Poi alla fine concluderò questa presentazione cercando di dare una risposta documentata all'interrogativo se stiamo andando bene o stiamo andando meno. Allora, è stato già richiamato il quadro normativo. e ogni tanto si blocca. Forse faccio prima con le frecce. sapete che dal PNRR, dall'omissione 6, discende una riforma ed è la riforma appunto dell'assistenza territoriale che si è concretizzata con il DM di poco più di un anno, un anno e mezzo fa. Questo DM introduce appunto le modalità di impegno anche della spesa del PNRR ma non solo. Ecco, questa è una prima attenzione che vi volevo sottolineare. I 7 miliardi che il PNRR stanzia per le strutture e per alcune attività non sono tutta l'assistenza territoriale. L'assistenza territoriale è un ambito più vasto e più ramificato delle sole pur importanti strutture finanziate dal PNRR. Tant'è vero che poi il DM 77 affronta tutta una serie di altre funzioni e servizi che non sono finanziati dal PNRR. dai consultori alla centrale operativa 116-117, alla rete delle cure palliative e così via. Quindi si tratta di una riforma che comprende il PNRR ma è più vasta ed è più ampia. Non poteva che essere così perché come è stato da qualcuno già detto c'è una chiara evidenza internazionale che solo un sistema integrato e coordinato di servizi sul territorio rappresenta una condizione di efficacia e di sostenibilità dei servizi sanitari nazionali. Non è una cosa che potevamo fare o non fare. Era l'unica cosa che dovevamo fare e che dobbiamo fare. Questo è il punto su cui vorrei insistere. La riforma dell'assistenza territoriale non va a detrimento dei nostri ospedali che hanno bisogno di ulteriori cure, di ulteriori investimenti e di ulteriori miglioramenti. Ma è la condizione perché gli stessi ospedali possano esercitare la loro funzione per il futuro, altrimenti rimarranno, come è stato per tanto tempo, delle isole in mezzo al deserto, delle oasi in mezzo al deserto, perché non hanno questo contesto sanitario e sociosanitario che gli aiuta a meglio esplicare le loro funzioni. Quindi il PNRR è una parte importante, ma non è l'unica parte della riforma. La riforma si caratterizza per questo aspetto delle cure coordinate e integrate, cioè non bisogna leggere nella riforma solo le singole realizzazioni, ma lo sguardo d'insieme. Che cosa dovrebbe essere da qui al 2026, da qui al 2030 la nostra sanità? E' questo lo sguardo che dobbiamo assumere, cioè come il cittadino paziente potrà essere assistito vicino a casa sua, a casa sua, da una serie coordinata di servizi. Noi abbiamo adesso il compito del monitoraggio e si tratta di un compito estremamente complesso, sia perché sono tante le realizzazioni da monitorare, e non sono solo quelle del PNRR ma tutte, sia perché in questi 20 anni ogni regione ha assunto un suo proprio modo di erogare l'assistenza territoriale. E c'è una difficoltà oggettiva nel riportare adesso a un modello unitario come quello del DM77, tutte le varianti, chiamiamolo con un termine epidemiologico, che si sono accumulate negli anni. Quindi è difficile già solo determinare l'oggetto e determinare di conseguenza le misure da applicare. Poi qualcuno ha detto, ma così si monitorano per esempio solo le strutture e non si monitora lo sguardo di insieme. Allora la risposta nostra è che invece noi vogliamo monitorare tutte le realizzazioni e tutti i servizi, a partire dai distretti, guardate, perché il cuore pulsante dell'attività territoriale sono o dovrebbero essere i distretti, i distretti sanitari o sociosanitari. Ma noi ci siamo accorti che molto spesso il cittadino non sa nemmeno che cos'è il distretto e tanti operatori non sanno nemmeno cosa fa il distretto. Quindi diciamo anche a queste parti meno conosciute, meno trattate dalla stampa, dobbiamo dare l'opportuno rilievo e farlo conoscerlo e metterlo in rete. Quindi per fare questo abbiamo attivato un grande meccanismo di partecipazione per ora con gli operatori, ma come dirò più avanti auspicabilmente anche con i cittadini. In questa fase gli operatori, prima delle regioni e a partire dal prossimo mese, dal mese di novembre o anche delle singole aziende ASL, stanno rilevando tutta una serie di informazioni che in questo momento non erano disponibili e sulle quali si comincia a comporre questo puzzle così complicato che è l'assistenza territoriale del nostro paese, come adesso e come sarà nei prossimi anni. Vedete che gli oggetti della rilevazione sono da un lato gli atti normativi e programmatori delle regioni, perché ci siamo accorti che molte delle leggi che sono state fatte in maniera più che condivisibile nel nostro paese poi non si traducevano in atti regionali o in atti aziendali, cioè rimanevano sospesi in questo limbo giuridico. Vi sembrerà strano, ma anche gli accordi Stato-Regione, che per definizione sono sottoscritti da 22 parti, dal Ministero da un lato e 21 regioni e province autonome, hanno bisogno, dopo la sottoscrizione, di un ulteriore atto di recepimento da parte delle singole regioni, perché altrimenti non prendono vigore. E tante volte, è successo, noi lo stiamo monitorando, questi atti di ricepimento non c'erano e queste previsioni, questi impegni, questi accordi sono rimasti un furmo. Allora, abbiamo dato a tutta una serie di norme che sono attuative della riforma un opportuno rilievo e ne monitoriamo, ma anche, come dirò, dopo assistiamo le regioni nel dare piena realizzazione a questi impegni. Poi dopo ci sono anche le dimensioni organizzative, cioè quanti standard sono stati rispettati e quanti no. Sappiamo che gli standard del PNRR debbano essere realizzati entro la metà del 2026, però nessuno impedisce, alcune regioni hanno già iniziato in tal senso, di cominciare a realizzarli fin da subito, con le mura, senza le mura, con mura provvisorie, che poi diventeranno le mura definitive. C'è una varietà enorme di programmi regionali, ma l'importante è cominciare a far esistere e utilizzare questi servizi da parte dei cittadini, non aspettare la fine del 2026 perché i problemi sono già oggi presenti e non si può condizionare tutto alla piena realizzazione dell'investimento. Ecco, quindi le unità di rilevazioni, come dicevo, sono tantissime, sono tutte quelle previste dal DM77, anche se poi la stampa parla solo di case della comunità o di COT, ma in realtà il disegno è molto più ampio. Prendiamo il tema delle cure palliative. Le cure palliative sono state poco realizzate nel nostro Paese. Allora, noi a questo tema abbiamo dato molta importanza, continuiamo a darla, stiamo raccogliendo dati, stiamo sollecitando le regioni ad attuare le intese, stiamo producendo attraverso un gruppo di lavoro delle raccomandazioni pratiche per superare degli ostacoli nella realizzazione. Però ecco, questo è un tema meno battuto dalla stampa, ma fondamentale anche questo. Noi oggi siamo a dicembre 2023 alla terza fase del monitoraggio, in cui passeremo da una rilevazione affidata alle regioni a una rilevazione affidata alle singole aziende. Abbiamo più di 120 aziende sanitarie locali nel nostro Paese che poi si chiamano, anche quelle si chiamano in modo diverso, non si chiamano tutte ASL, ma in alcune parti si chiamano AST, in altre parti si chiamano ASST, anche per dire la fantasia italiana dove poi ci ha portato. Tenendo conto di questo pluralismo organizzativo, stiamo ramificando l'indagine e la raccolta dei dati in tutte le oltre 320 ASL. Che cosa si comincia a vedere da questo monitoraggio? Il monitoraggio è partito a dicembre del 2022, è semestrale, abbiamo fatto già due edizioni, la seconda edizione si è conclusa a giugno di quest'anno e la terza edizione inizierà a novembre, cioè tra meno di un mese. Quindi non abbiamo ancora i dati di più aggiornati, ma abbiamo i dati di giugno e in questi dati, qui c'è una sintesi, poi vi lasceremo le slide, e potrete anche leggere meglio. Qui per esempio c'è in questa slide quante regioni hanno attuato quegli accordi e quelle intese che il DM77 prevedeva, ma anche altri atti normativi precedenti prevedevano e appunto da questi numeri noi abbiamo poi segnalato alle singole regioni la necessità di procedere rapidamente all'attuazione di queste norme. Una delle norme previste riguarda i medici di medicina generale, è stato chiamato poco fa il ruolo dei medici di medicina generale, che sono o dovrebbero essere o dovrebbero diventare protagonisti delle case della comunità. Come tutti sapete, l'accordo collettivo nazionale dell'anno scorso non citava espressamente la struttura casa della comunità, ma in maniera più generica parla dei presidi che le ASRE realizzeranno. E questa genericità è stata utilizzata da qualcuno come una forma di non impegno. Ora, in quest'autunno ci dovrà essere il nuovo accordo e in quest'accordo dovranno trovare spazio espressamente proprio gli impegni all'interno della casa della comunità. Questo potrebbe avviare la soluzione del problema della presenza dell'operato dei medici di medicina generale all'interno delle case della comunità. Devo dire che le regioni che invece hanno voluto e hanno saputo intessere un rapporto più forte con i propri medici di medicina generale hanno già fatto entrare i medici di medicina generale in tutte o in una parte delle case della comunità. Quindi anche questo impegno comincia a vedersi. Ci sono regioni, parlo del Piemonte, parlo dell'Emilia Romagna, che hanno già la presenza totale o parziale dei medici di medicina generale all'interno delle proprie case della comunità. Quante sono le case della comunità attive? Ne sono state programmate oltre 1430. Ora vedremo se tutte avranno il finanziamento europeo o una parte di queste dovrà essere realizzata con finanziamenti italiani. Come sapete che c'è un'interlocuzione molto stringente tra il nostro governo e l'Unione Europea su questo punto, però già 187 strutture concentrate in alcune regioni sono già attive. Sono le case della comunità che vuole il BM77? Non del tutto, sono realizzazioni in divenire, quindi alcune sono molto vicine al modello di M77, hanno cioè tutti i servizi previsti, altre sono a metà strada tra i vecchi ambulatori o i vecchi PTP o si chiamavano in tanti modi in tutte le regioni e le vere e proprie case della comunità. Noi per esempio adesso stiamo studiando un po' le due case della comunità della Sicilia che hanno un insieme di servizi molto vasto, non hanno ancora i medici di medicina generale al proprio interno e questo sarà il prossimo passo. Però si sono già strutturate per avere i servizi H24, per avere l'infermiere di famiglia e di comunità, per avere la telemedicina, quindi non è più fermo al vecchio modello, ma c'è un movimento in corso anche nelle regioni che sono partite più tardi rispetto a quelle come l'Emilia-Romagna o il Piemonte che avevano già precedentemente investito sulle case della comunità, che allora si chiamavano case della salute. Anche le COT, cioè queste centrali operative che dovranno tenere le fila dei percorsi dei pazienti tra gli ospedali e il territorio, cominciano ad essere attive. Alcune di queste sono quelle centrali nate durante la pandemia, quando si trattava di stabilire se un paziente doveva essere ricoverato oppure poteva essere assistito a casa e viceversa, se quando poi il paziente sarebbe stato dimesso, dove sarebbe stato ospitato. Vi ricordate che c'erano anche i COVID hotel in quel momento, c'era una varietà di offerta che poi è stata riassorbita, ma ecco, in quelle strutture continuano ad operare e acquisiscono progressivamente il ruolo che gli dà il DM27. Gli ospedali di comunità sono un'altra delle realizzazioni, alcune di queste già esistevano nelle regioni, altre si stanno creando adesso anche per effetto di una rimodulazione dell'assistenza ospedaliera post-acuzie, perché noi in Italia abbiamo oltre 10.000 letti di lungo degenza, che sono spesso dei parcheggi, passatemi il termine, cioè dei luoghi in cui il paziente esce dal reparto di medicina, viene ospitato, fino a che non si trova una bellocazione più opportuna. Queste strutture dovranno essere in parte trasformate in ospedali di comunità, in parte diventare delle strutture post-acuzie vere, cioè con una dotazione di infermieri, di fisioterapisti, di riabilitatori, che permette una vera rieducazione, una vera ripresa funzionale della persona. Ecco, vado a concludere questa parte dicendovi appunto come vi avevo accennato che i distretti sono un altro dei nostri punti di osservazione. Abbiamo per la prima volta dopo molti anni censito i 566 distretti italiani e adesso li rappresenteremo su un servizio che si chiama Trova Strutture, in cui appunto chiunque può localizzare la struttura più vicina al proprio comune, un servizio già presente sulla piattaforma Agenas. Di questi distretti noi, vedete, abbiamo anche chiesto quanti coincidono con gli ambiti territoriali sociali, perché la famosa o famigerata integrazione sociosanitaria comincia anche da qui, dal fatto di dire che i distretti e gli ambiti territoriali sociali riguardano le stesse aree geografiche, non possono essere disaccoppiati, devono essere omogenei, perché solo così si può fare la programmazione insieme. e veniamo adesso al futuro. Una volta raccolti tutti questi dati e altri ancora, perché il monitoraggio ad ogni semestre aggiunge informazioni, cosa ne faremo? Dovremo avere un quadro concettuale in cui queste misure vengono collocate per dare la possibilità a tutti, anche alle associazioni, e anche agli utenti, di valutare la propria regione o la propria azienda circa l'attuazione dell'assistenza territoriale. Per fare questo ci ispireremo a questo framework che l'OMS ha pubblicato lo scorso anno, dove appunto saranno collocati i diversi indicatori. E qui c'è un punto importante di coinvolgimento con le associazioni, perché questo lavoro noi intendiamo farlo proponendolo anche, esponendolo anche alle associazioni, quindi creando degli strumenti di consultazione quando questo framework sarà stato delineo. Insieme a questa attività di monitoraggio ho detto Agenas fa anche un lavoro quotidiano di supporto alle regioni, sia attraverso l'elaborazione di documenti tecnici di supporto, sia proprio attraverso un affiancamento alla loro attività. In questo momento stiamo affiancando mi pare cinque regioni, ma l'agenzia ha offerto a tutte le regioni italiane, regioni e province autonome, la propria disponibilità a fare l'affiancamento nella realizzazione di questo complesso di servizi che è appunto la riforma territoriale. Tra le varie attività dell'agenzia ricordiamo anche quella della creazione della piattaforma nazionale dei servizi di telemedicina, collegata poi alle piattaforme regionali. E per ultimo, questo è un altro filone di attività che riguarderà anche molto le associazioni, noi abbiamo chiesto nel nostro monitoraggio, e lo chiediamo ad ogni semestre, che cosa le regioni stanno facendo per coinvolgere le comunità nella creazione delle case della comunità. perché come è scritto nel DM77, la casa è non per la comunità, ma è della comunità. Quindi è, diciamo, fondamentale che le comunità variamente espresse da associazioni, terzo settore, parrocchie, sindacati, consigli di quartiere, tutte le forme di partecipazione abbiano una qualche voce nella costruzione della casa di comunità e nella valutazione dei suoi servizi. Questo già in alcune realtà si fa. Noi abbiamo visitato alcune case della comunità che periodicamente convocano la propria comunità per esporre i programmi e ricevere commenti, proposte, forme di collaborazione, perché poi non tutto è erogato diciamo dalla casa della comunità, ma viene in qualche modo attivata questa rete sociale del territorio. E da questa domanda che noi abbiamo posto alle regioni abbiamo avuto conferma di quello che pensavamo, cioè che le regioni non hanno ancora un approccio strutturato a questo tema del community based, cioè sono ancora affidate alla buona volontà del singolo direttore di distretto, del singolo direttore generale, mentre servirà un approccio uniforme, strutturato per fare in modo che queste realizzazioni avvengano nella maniera più efficace. Per questo abbiamo istituito un gruppo di lavoro sulla partecipazione dei pazienti e dei cittadini e della comunità e sulla coproduzione nell'ambito delle case di comunità. Anche questo gruppo predisporrà, sta predisponendo un documento diciamo di base che però poi verrà messo diciamo a disposizione sul nostro sito per ricevere commenti e proposte. Concludo quindi con la risposta a ciò che il coordinatore mi chiedeva prima, stiamo andando così male tutto così catastrofico io penso di no penso che si tratta di un processo complesso abbiamo visto quanti aspetti sono implicati e che prospettiva di futuro ha quindi non è una cosa che si realizza dall'oggi al domani è una cosa che richiede tempo molto lavoro e molta come è stato detto collaborazione tra lo Stato e le regioni nessuno può secondo me giocare allo scaricabarile dicendo è lo Stato che finanzia poco no sono le regioni che non spegnono bene bisogna che Stato e Regioni credano fino in fondo a questo cambiamento e come dicevo è l'unica condizione di sostenibilità che avremo per il futuro visto l'invecchiamento delle malattie croniche e quindi non c'è come dire da sfuggire a questo impegno dai segnali che vediamo noi qualcosa comincia a realizzarsi e noi siamo fiduciosi che il modello se verrà continuamente sostenuto dagli organismi istituzionali ma anche dalla rappresentanza degli utenti se si fa questo sforzo corale questo modello produrrà i suoi risultati grazie grazie abbiamo la prova al dottor Francesco Gabrielli direttore centro nazionale per la telemedicina e le nuove tecnologie assistenziali dell'istituto superiore di sanità bravo grazie cosa può fare la telemedicina per migliorare la situazione è una cosa del presente e del futuro il rapporto col medico è già quasi passato è già quasi passato che è successo allora buon buongiorno a tutti buongiorno a tutti e grazie 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 per rispondere con una battuta con una battuta la domanda cosa può fare la telemedicina la risposta potrebbe essere in estrema sintesi la telemedicina può fare ciò che noi siamo in grado di farle fare perché non ci deve essere la fantasia che la tecnologia da sola risolve i problemi è nel modo in cui la usiamo che possiamo trovare la strada per risolvere dei problemi se la usiamo male i problemi non risolviamo per niente anzi magari li acquiamo cioè la tecnologia non è una specie di bacchetta magica io la introduco semino un tot di computer in ospedale o nel distretto un po' di smartphone ho fatto la telemedicina ho risolto i problemi non funziona così e non funziona così perché per un motivo molto pratico molto molto concreto non teorico i computer sono stupidi fanno solo ciò che gli viene detto di fare niente di più e niente di diverso per cui se quando io uso un computer non ho previsto prima di usarlo come deve l'essere umano professionista e paziente interagire con quel sistema computerizzato quando io vado a operare semplicemente il sistema non funziona o come molto più spesso accade non è per niente utile a chi dovrebbe usarlo e quindi non lo usa facciamo un esempio fascicolo sanitario elettronico non è che siamo brutti e cattivi quelli che non lo usano è sbagliata la progettazione o meglio la progettazione fu fatta per un uso specifico e quello funziona bene che è il controllo di gestione tant'è che a fine dell'anno ci abbiamo riportate tutte le visite tutti i scontrini della farmacia sulla dichiarazione dei redditi quello funziona bene infatti ultimamente ho mostrato qualche difetto anche quello ma lasciamo perdere dettagli teplici comunque funziona diciamo che funziona bene pure quello ma per l'attività clinica non ha mai funzionato perché non è stato mai pensato per quello perché se voi immaginate che in uno studio medico pieno di gente il medico possa passare dieci minuti buoni a cercare di collegarsi al sistema tra password cose rallentamenti eccetera eccetera e poi andare a scartabellarsi uno per uno aprendoli tutta la lista di pdf che stanno nella repository del paziente aprendone uno per uno per vedere cosa c'è dentro e capire se gli serve e poi appuntarselo a penna o scriverselo sul proprio software poi chiudere tutto e parlare col paziente e visitarlo e quanto ci vuole a fare questa visita un'ora quindi è qualcosa che è stato pensato senza concepire il rapporto in fase di progettazione con chi poi lo deve utilizzare e siccome questo rapporto non c'è non è stato utilizzato ora la stessa cosa succede sta succedendo e vi dico sono facile profeta succederà per tutte le altre volte che sarà percorsa questa storia questa diciamo modalità fallace di interazione e di costruzione dei servizi in telemedicina perché se io penso che di organizzare una televisita in un sistema sanitario X qualunque in qualunque parte d'Italia e del mondo buttando là uno smartphone al paziente e un laptop al medico e fatevi la vostra telemedicina la vostra televisita sicuramente non verrà utilizzato fatta questa risposta consentitemi però ho preso un po' gli appunti mentre ascoltavo gli altri relatori che è molto interessante che mi hanno dato spunti di riflessione allora parto un po' dal titolo allora mi permetto di commentare varie cose perché la telemedicina vedete è una particolare modalità di attività sanitaria che aumenterà negli anni ma che oggi anche in futuro rappresenterà una parte dell'attività sanitaria non tutta la sanità una parte ma questa parte un po' più piccola un po' più grande occupa trasversalmente tutte le attività della sanità e anche diciamo anche dell'assistenza sociosanitaria anche se lì di meno questa trasversalità fa sì che c'è un pochino di telemedicina in ogni processo di lavoro presente e futuro più futuro che presente e questo poco di sanità digitale deve integrarsi con il resto questa integrazione è quello di cui vi vorrei parlare stamattina perché è un punto cruciale che stiamo affrontando a mio parere dal versante sbagliato ed è questo parliamo delle liste d'attesa allora cos'è una lista d'attesa la lista d'attesa è nient'altro che l'effetto dell'inadeguatezza organizzativa e gestionale di una qualunque organizzazione rispetto alla richiesta di un certo servizio o bene ma ve lo immaginate voi Amazon che fa le liste d'attesa per chi vuole comprare i libri a scuola nel mese di settembre andrebbe ovviamente fallito immediatamente quel settore commerciale quindi cosa fanno prima che arrivi settembre si organizzano in modo tale che se anche arrivano un milione di richieste in un giorno loro riescono a soddisfarli cos'è questa programmazione quindi la lista d'attesa esistono perché in sanità non si fa programmazione corretta perché se no non esisterebbe vogliamo fare un altro esempio l'intramenia che avete citato l'intramenia noi la stiamo affrontando come se fosse un'attività privata più o meno collocabile storicamente tra la fine dell'ottocento e i primi i primi cinquant'anni del 1900 più o meno ma guardate che l'attività privata dei medici e degli infermieri e delle altre professioni sanitarie sarà diversa nei prossimi dieci anni da quella che noi pensiamo oggi vi faccio un esempio pratico il la teleriabilitazione il riabilitatore il fisioterapista il paziente lo segue a distanza non nel proprio studio può farlo nel proprio studio alle volte può farlo a distanza anzi si stanno sempre più spostando verso questa attività a distanza così potrebbe può fare e farà sicuramente anche il medico sarà sempre di più così tanto più saranno pochi i medici perché è chiaro che se io devo pensare avete presente tutto il DM77 case di comunità ospedale di comunità tutte quelle sedi di prestazioni sanitarie compreso il domicilio del paziente che non è solo la casa dove va a dormire ma è tutti i luoghi che è frequente al paziente se tutti questi luoghi i professionisti possono esserci solo fisicamente come essere individui diciamo a tre dimensioni che si muovono da una parte all'altra non ve lo immaginate cosa può succedere niente l'assenza di servizi e lo vediamo lo vediamo già oggi lo vediamo nelle zone più disagiate nelle isole nelle zone dei collinari dove non ci sono i medici che potrebbero dovrebbero essere lì però già da alcuni anni si può fare il teleconsulto specialistico a distanza quindi io il sabato sera prima di pasqua che il bambino ha la febbre alta in un paese sperduto io il pediatra ce lo posso mandare attraverso la telemedicina ma devo programmarlo prima perché se penso di farlo nel momento in cui il bambino ha la febbre non ci arrivo ecco qui il punto nodale conferenza stato regioni io mi domando da un po' di tempo a cosa serve la conferenza stato regioni perché se è un organismo dove partecipano correggetemi se sbaglio perché non sono un giurista ma se ricordo bene partecipano i presidenti delle regioni alla conferenza stato regioni cioè la massima espressione della volontà popolare di quelle regioni più i rappresentanti dello stato mi spiegate io faccio da tanto prima della pandemia questa domanda e ancora non ci ho trovato mai nessuno che mi abbia risposto mi spiegate perché qualcuno di voi mi sa spiegare per quale motivo una conferenza stato regioni dove c'è lo stato e i rappresentanti massimi delle regioni prende una decisione all'unanimità poi questa deve essere ratificata dagli atti regionali per quale motivo o delle due luna o è inutile la conferenza stato regioni o è inutile l'altro io non lo capisco francamente i lea sono stati citati sapete quante volte nel testo dei lea del 2017 è citata la parola telemedicina zero computer zero persino la parola elettronico non c'è mai che è una cosa che si usava quando io ero giovane c'è scritto solo una volta la parola telematico se ricordo bene l'articolo 18 quando si dice che per mandare alla la richiesta per avere la protesi quando quel giorno non c'è nessuno e ce la può portare il piccino viaggiatore sta male e si è rotto anche il telefono allora si può usare il fax è scritto così non sto scherzando siamo nel 2017 non nel 2000 avanti Cristo nel 2017 è stata scritta questa cosa allora vedete qui c'è un problema di concezione normativa ma voi ve lo immaginate nei lea la questione di porre la televisita o il teleconsulto dello specialista di sabato sera per il bambino dentro a quest'ilea qua è quasi impossibile la certificazione medica a distanza è vietata per legge in Italia io la posso fare tecologicamente io sono in grado di dirvi che un medico con un giusto paziente dall'altra parte può certificare a distanza l'esistenza di una certa patologia ma se lo faccio sono penalmente perseguibile l'assistenza territoriale l'assistenza territoriale noi la concepiamo come il medico che aspetta nel proprio ambulatorio medico di famiglia che il paziente quando sta male o gli telefona o va a visita e da lì parte tutto gli esami gli accettamenti diagnostici le visite specialistiche eccetera eccetera se noi basiamo l'assistenza territoriale su questo modello nei prossimi anni ci troveremo con l'assistenza territoriale che avrà in suo carico la gestione la organizzazione la gestione magari anche attraverso le COT di sistemi assistenziali e di cura sempre più complessi e costosissimi cioè il paradosso dell'innovazione tecnologica e anche farmaceutica però farmacologica della medicina di questi anni sta nel fatto che noi eroghiamo prestazioni sempre più sofisticate sia diagnostiche che terapeutiche ma sempre più costose nel loro complesso magari la pillolina riduce pure il suo costo singolo ma per arrivare alla pillolina io devo fare un percorso molto costoso della diagnosi differenziale allora tutto questo sistema sarà sostenibile nei prossimi anni con il tipo di situazioni che abbiamo soltanto se ci sarà un investimento forte sulla prevenzione altro che ultima ruota del carro deve essere la massima possibile perché se no non reggiamo perché se noi riusciamo anche attraverso e la telemedicina qui può dare dei risultati strabilianti strabilianti sulla prevenzione a tutti i livelli se noi usiamo le tecnologie digitali per fare prevenzione noi arriveremo a percorsi di diagnosi e di cura molto costosi per pochissime persone molto sofisticati che gli risolveranno il problema anche se nonostante tutta la prevenzione ahimè ai loro o ai noi perché magari tocca pure a me dovranno svilupperanno una patologia per la quale necessiteranno di queste di queste presidi allora riusciremo a sostenerlo ma solo se investiamo nella prevenzione e poi nella cura a domicilio molte questioni sono curabili affrontabili a domicilio poi ci abbiamo messo dieci anni per arrivare alla 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 ricetta dematerializzata e ci abbiamo messo dieci anni non di maturazione perché la maturazione è avvenuta in un mese di covid per dieci anni ci hanno raccontato che più che fare la ricettina bianca non si poteva se no succedeva l'ira di dio poi un mese di covid finiti tutti i problemi si può pure ricevere a casa affamico pensate un po' primo utile di esercizio di amazon nel 2004 forse si ricordo bene quindi usiamo oggi nel 2020 sotto la spinta della necessità urgente del covid qualcosa che esiste già da 20 anni e di cui semplicemente avevamo ignorato l'esistenza per 20 anni poi l'altro aspetto importante è la super personalizzazione io la chiamo così per spiegare bene di cosa si tratta la telemedicina anzi la medicina digitale quindi quello che sarà nei prossimi anni l'evoluzione della telemedicina ci porterà a avere delle un approccio al malato diverso da quello del passato e ve lo spiego con un esempio semplice quando abbiamo la febbre a 38 cosa dice il dottore prendi la tachipirina prendi la tachipirina quanto? 500 mille milligrammi perché questi numeri da dove vengono? partiamo 500 milligrammi per capirci vengono dall'analisi statistica e dalle due deviazioni standard che comprendono tutta la 95% della popolazione 90% cioè cosa ti dice il medico realmente in quel momento ti dice prendi 500 milligrammi perché nel 95% della popolazione che ha quando ha la febbre a 38 se prende 500 milligrammi gli si abbassa a 36 ma dovrebbe dire il medico ma io non so cosa succederà a te quando prendi le 500 milligrammi perché non so in quella curva dove tutti posizioni e non lo posso sapere prima non c'è modo di saperlo prima ecco la medicina digitale ci fa superare ci può mettere in grado di superare questo limite cioè io posso sapere che alla persona Mario Rossi gliene basta 400 di milligrammi di tachipirina per arrivare allo stesso risultato ma per farlo ho bisogno di avere dei dati di quella persona con una montagna di dati di quella persona non solo quando sta male abbiamo la potenza di calcolo per gestire tutto questo sì sicuramente sì ve lo do per sicuro ce l'abbiamo oppure troppa però non lo facciamo perché i dati devono essere validati perché i dati poi c'è il garante della privacy che ci dice che non possiamo sapere niente di niente eccetera eccetera quindi c'è un problema di gestione anche della privacy in Italia perché negli altri paesi d'Europa che abbiamo lo stesso GDPR ma si comportano in maniera diversa non voglio non mi si fraintenda la tutela dei dati personali della sanità è una cosa importantissima tendiamoci bene ma bisogna essere attenti a come gestiamo questo questo fatto perché altrimenti l'eccesso opposto di eccesso di zelo nel difendere le cose impedisce la progressione della scienza e delle cure la super personalizzazione come avviene in telemedicina e con la medicina digitale attraverso la selezione persona per persona del percorso che fa utilizzando qualche volta la telemedicina qualche volta anche no potrebbe non essere necessario sempre potrebbe essere controindicato essere sempre in telemedicina ad esempio è sconsigliato fare la televisita a una persona che non ho mai visto prima perché secondo la canone diciamo medico lo devo visitare anche fisicamente gli devo fare la palpazione dell'addome la palpazione della percussione dell'addome e del torace magari gli fa male la gamba devo toccato gli fa male la gamba purtroppo ancora a distanza non si può trasferire il tatto e quindi non posso fare tutto l'esame obiettivo però ci sono dei pazienti che io conosco bene che posso seguire anche senza fargli la visita completa come usavo una volta perché posso avere le stesse informazioni attendibili attraverso una serie di strumentazioni o di dispositivi digitali o di strumenti di supporto quindi il servizio alla persona va inteso come un insieme coordinato di prestazioni che usano la tecnologia digitale nel miglior modo per ottenere il mio risultato per quella persona e lì si arriva al massimo possibile il finanziamento della sanità non dovrebbe essere più a prestazione è ridicola questa cosa nei nostri tempi deve essere a percorso del paziente anche perché guardate la telemedicina chi pensa che una televisita in telemedicina costi meno di una visita in presenza sbaglia perché è come dire che costa meno far partire un aereo che far partire un carretto per far decollare un aereo io ho bisogno di uno sforzo enorme per quella singola cosa ma nell'economia del viaggio ci guadagno di tempo di tante altre cose quindi va visto il percorso il percorso che è necessariamente multidisciplinare telemedicina ci porta alla riorganizzazione delle professioni sanitarie non possiamo più avere le organizzazioni come prima ci saranno nuovi mestieri il case manager noi facciamo finta che non esista esiste già da tempo negli altri paesi ci mettiamo gli infermieri che riusciamo a metterci ma è un mestiere apposta diverso dall'infermiere classico per cui bisognerebbe essere formati non inventarsi all'impronta quindi la tecnologia come vedete è l'ultima cosa che bisogna decidere in tutto questo assetto di problemi e la carenza di personale difficilmente verrà risolta dalle tecnologie perché perché la tecnologia per essere ben strutturata all'interno di un percorso ha bisogno di tanta gente che ci lavorano con mestieri nuovi rispetto al passato qui c'è un problema delle università molto importante cioè le università dovrebbero in Italia anche questo lo vado dicendo da tanti anni dovrebbero riformare il sistema di studi e pensare a prevedere inserimento di studi qualche esempio in Italia spavuto c'è di università che si stanno riorganizzando in questo senso e poi c'è un altro problema il pensionale del comparto la tecnologia probabilmente diminuirà la necessità di personale di comparto sanitario perché è come la robotizzazione della catena di montaggio ci dovranno essere meno operai non qualificati e più specialisti di determinati settori ad esempio data analyst o altre cose di questo tipo esperti di robotica sistemisti eccetera quindi cambierà anche il comparto sanitario e sono tantissime persone che hanno il lavoro in questo settore quindi bisognerà ragionarci vedete come ritorna sempre la programmazione la programmazione la programmazione ritorna sempre questo discorso per fare programmazione bisogna conoscere le cose come stanno perché sennò programmi sulle fantasie meglio uno stia fermo se programma sulle fantasie la programmazione deve essere sui dati e quindi i dati vanno analizzati vanno studiati quindi ci vogliono gli studi sulla fatti di questo tipo di settore per andare avanti concludo con le farmacie noi abbiamo una legge da tanto tempo la farmacia dei servizi per sentire parlare allora la farmacia dei servizi ci sta scritto da qualche parte che non si può fare telemedicina dentro una farmacia io non mi pare che ci sia scritto perché non può essere in tutti quei territori che non possono essere raggiunti se non con difficoltà la farmacia è un luogo dove fare dei servizi di telemedicina che però non possono essere fatti così e in modo estemporaneo sulla buona volontà o dalla fantasia del farmacista e poi non collegati alla realtà dell'azienda sanitaria non ha senso perché attenzione a fare una sanità digitale parallela alla sanità quella diciamo complessiva primo perché si rischia di prendere in giro le persone secondo perché si rischia di non arrivare a tempo quando c'è un problema serio per cui i rischi sono notevoli però se la farmacia eroga dei servizi telemedicina in coordinamento con l'asle di riferimento può essere solo che un vantaggio perché non lo si fa qui la risposta la lascio così in sospeso perché ci sarebbe da fare molto una domanda al volo così secca perché è tardi io pensavo se ci facesse sognare invece zero sogno zero va svegliato in tutti i servizi in cui sono state applicate le tecnologie si sono ristrutturate le fabbriche le banche il settore dell'energia eccetera in tutti questi servizi si è ridotto il personale si sono migliorati i servizi si sono cambiato il personale più veloci quando arriviamo invece alla pubblica amministrazione questa cosa si blocca allora si blocca nel senso che non c'è questo aspetto perché c'è un problema proprio di perdere di potere o di incapacità o la paura di perdere di potere di personale oppure io non capisco qual è il blocco lei mi sta portando su una valutazione politica che non è il mio mestiere io non sono un politico sono un tecnico io posso dirle non esistono i tecnici che non sono politici al contrario non lo so allora sono rimasto l'ultimo io so no guardi ma io non ho nessun potere guardi le assicuro io posso soltanto proporre delle cose e scriverle e vedere se qualcuno le legge e basta il problema a mio parere da un punto di vista diciamo tecnico è questo nel momento in cui si pone un problema allora innanzitutto la la sanità come dicevano i vecchi studiosi di organizzazione è un sistema è un'organizzazione burocratico professionale si definisce così scientificamente cioè è un'organizzazione che ha bisogno di una di un insieme di processi di lavoro codificati e fermi immutabili nel tempo per controllare la qualità per autocontrollare la qualità di se stessa con dei sistemi ridondanti con tutti i sistemi che servono a garantire di portare più vicino a zero possibile la possibilità di errore una organizzazione così che non è che è fuori luogo ha un senso perché sia così è però vincolata diciamo è limitata nelle possibilità di cambiamento cioè cambia lentamente con grande difficoltà a questo lei poi ci deve aggiungere il discorso del posto di lavoro perché chiaramente se oggi abbiamo un tot di mila persone impiegate in sanità nel comparto e le queste migliaia di molte di queste migliaia di persone hanno potrebbero essere sostituite da sistemi software che lavorano peraltro H24 posso creare un problema allora nelle transizioni tecnologiche è sempre successo che inizialmente si sono persi un po' di posti di lavoro non specializzati per recuperarne di più in modo specializzato ma c'è bisogno di un tempo di un tempo perché le persone vanno formate ok non solo quelli nuovi cioè i giovani ma anche anche gli utenti vanno formati certo certo ha ragione ha ragione quindi questo periodo di transizione è più o meno lungo a seconda della situazione di partenza e della tecnologia va gestito diciamo dal mio punto di vista l'errore è far finta che non esista questa cosa poi le soluzioni possono essere tantissime si va anche nel discorso delle scelte politiche in cui non voglio entrare ma comunque l'errore che non dobbiamo mai fare è far finta che non esista grazie grazie Sardetta Boracchia è appresentante di Peter Pharma di Guria di poeti di cantautori di farmacisti poi alla dottoressa Erika ma la rientra è nel compito di concludere va beh ma se noi siamo spensi per farlo Boracchia Buongiorno a tutti i relatori prima di me hanno aggiunto molti spunti a quello che voleva essere la mia attuale piccola relazione anzi controllo l'orario aperto da assistenza territoriale l'assistenza territoriale vede la farmacia grazie basta così però un numero ridotto grazie benissimo assistenza territoriale la farmacia è assistenza territoriale la farmacia non è un'entità privata è un'entità che è una concessione del servizio sanitario nazionale noi siamo 20.000 punti insieme alle farmacie comunali quindi rappresentiamo 20.000 punti dicevano una volta più delle caserne dei carabinieri allora era una frase che sembrava facesse ridere oggi non abbiamo più neanche i parruci non abbiamo neanche più le caserne dei carabinieri ma la farmacia c'è e queste farmacie peraltro isolate nei punti nei paesi dove non c'è altro sistema di assistenza in senso lato di assistenza non solo sanitaria sono diventate sempre più importanti il PNRR ha messo a disposizione opportunità economiche proprio per far sì che le farmacie economicamente più svantaggiate potessero usufruire di sistemi finanziati dal servizio pubblico a disposizione per i cittadini perché il pulpro della nostra attività è veramente come per tutte voi associazioni il cittadino il cittadino è la persona per noi più importante in assoluto il cittadino è quello che vede le disuguaglianze noi abbiamo la possibilità di mediare verso il cittadino e di parlare di un sistema che effettivamente può sembrare di disuguaglianze ma il sistema che funziona è quello che fornisce quello che è necessario ha le necessità del singolo non è quello che fornisce a tutti la stessa cosa deve fornire quello che serve ripeto secondo la necessità del singolo le necessità del singolo sono quelle della famiglia che deve assistere il malato la famiglia che ha il malato di Alzheimer io sono reduce da una interessantissima convention che è stata fatta alla Spezia dove parlava il professor Trabuchchi su questo Alzheimer Fest dove si è parlato di prevenzione dove si è parlato di problemi della famiglia e lì in mezzo la farmacia è il credugnant fa il sistema sanitario e la famiglia perché qualunque cosa nel percorso di cura del paziente fragile nel quale deve intervenire la famiglia quando non ci sono badanti o comunque anche badanti il professionista più vicino al domicilio del cittadino è il farmacista ed è quello che può mediare qui colgo il lancio direi che ha fatto il dottor Gabrielli il quale condivido tutto quello che ha detto tutto in foto dove secondo noi i servizi di telemedicina e in questo la regione Liguria è all'avanguardia perché ha creato due leggi importantissime regionali una sui locali per i servizi della farmacia dei servizi locali non di vendita ma locali nella pianta organica della farmacia o anche strutturati in rete fra farmacie per poter sviluppare questa parte importantissima che è quella della teleassistenza abbiamo il teleconsulto chiaramente è fra medici e questo è un altro discorso ma questo cittadino potrebbe trovare nella farmacia vicino a casa un punto dove collegarsi con l'ospedaliero con quello che lo ha in cura con quello che lo ha in carico sono mi fa piacere sentirlo dire ma mi spaventa un po' il fatto che non abbiamo studiato bene i processi non si può studiare una cosa alla rovescia mettendo in campo la tecnologia come ci ha spiegato molto bene e non prevedendo qual è il processo siamo abituati sempre a pensare al processo e poi studiare quello che serve per realizzarlo la tecnologia diciamo è un mezzo e la tecnologia in Liguria è stata molto molto utilizzata perché Liguria digitale ha avuto una visione con l'ingegner Castagnini di futuro questo è avvenuto purtroppo nella grave situazione della pandemia ma che è stata una grossa opportunità del resto le crisi generano opportunità le opportunità sono quelle che ci fanno andare avanti e allora mettere in sinergia mettere a sistema tutte le informazioni fascicolo sanitario inteso in un altro modo inteso in un vero fascicolo sanitario non un fascicolo che mi dice quanti farmaci ho consumato la teleassistenza telecardiologia è una piccolissima opportunità della quale poi vi darò alcuni risultati ma è una coda è uno dei tanti fenomeni che possiamo trattare in farmacia con ottimi risultati e con ottimo gradimento del cittadino che non deve spostarsi per andare ad avere un servizio il cui risultato è comunque molto garantito e è fruibile dal medico di base dal cardiologo dall'ospedale il farmacista è il professionista che conosce il farmaco abbiamo parlato di ADI non può esistere un ADI senza un farmacista senza un farmacista perché al domicilio il cittadino noi sappiamo che le cure in Italia il costo dei farmaci la spesa del farmaco sono molto alte ma io vi posso assicurare che i dati di non aderenza alla terapia sono altissimi e questo cosa genera? Spreco di risorse e spreco anche di utilizzo da parte del cittadino che non raggiunge il livello necessario e che rischia il ricovero eventi acuti controllo di terapia è uno dei cardini della futura assistenza sanitaria per poter io non dico risparmiare per poter utilizzare meglio le risorse le risorse sono poche lo sappiamo però in molti casi sono spese non voglio dire malamente sono spese in un modo che non porta al risultato che ci aspetteremo in quanto non sono coordinate non abbiamo alimentazione informazioni che vanno su su siti fruibili come è stato detto prima ad esempio dal medico di medicina generale quindi la la crisi di personale mettiamo i farmacisti nei percorsi dove si parla di farmaco dove si parla anche di consegna ad omicidio del farmaco per i soggetti che hanno necessità dove si può portare il farmaco della distribuzione diretta che tramite i nostri distributori intermedi può arrivare dall'ospedale l'ospedale deve fare il suo ma poi lo possiamo consegnare noi insieme alle altre cose gli altri farmaci gli altri dispositivi al cittadino e spiegare nuovamente come vanno utilizzati sempre più anziani abbiamo persone che si confondono nella terapia non basta dargli il farmaco la farmacia è lì per verificare se è utilizzato tutto il farmaco ma questo ci vuole assolutamente la digitalizzazione non possiamo andare con i foglietti a mano eccetera quindi dobbiamo mettere a sistema questa piattaforma strutturata ha dimostrato in Liguria che la farmacia Ligure tra le 600 farmacie sono riuscite a dare risultati che sono stati certi perché misurati noi abbiamo avuto un numero di vaccinazioni covid in percentuale la più alta percentuale delle regioni in Italia chiaro siamo un milione e mezzo di abitanti e quindi i numeri sono stati quelli che sono stati ma è la media in assoluto più alta il che vuol dire che si può fare si può fare perché noi siamo collegati col servizio sanitario nazionale tutte le forze del territorio vanno messe a sistema dobbiamo sgravare gli ospedali che nascono per i fatti acuti nascono per le grandi terapie e dobbiamo riportare la bassa complessità e il post acuzi nelle case di comunità nei luoghi più idonei è inutile che continuiamo a dire che i nostri ospedali non funzionano i nostri ospedali devono fare quello per cui sono nati per cui sono stati chiamati chiaramente l'invecchiamento della popolazione crea sempre più necessità abbiamo carenze di infermieri lo sappiamo ma dobbiamo sgravare anche gli infermieri di attività che non sono loro proprie noi ci siamo già siamo lì siamo pronti e i cittadini ci utilizzano perché in realtà e noi non siamo un call center questo è un altro punto che secondo me è fondamentale cittadino oggi deve essere rassicurato con le notizie che abbiamo televisioni giornali radio oggi c'è un'angoscia generale che è ancora peggiorata dopo il covid ma secondo me sta peggiorando per i problemi economici per i problemi della guerra per tutti i problemi che le famiglie hanno la crescita dei giovani la scuola è tutto un problema da noi trovano un punto dove c'è una persona che sta ad ascoltarli e penso che una buona parte di farmacie ormai siano allineate vi dico per esempio che in Liguria noi siamo almeno il 50% che hanno attuato seriamente questo discorso di farmacia dei servizi Regione Liguria ha creato un progetto digitale nel quale in tutte le 600 farmacie della Liguria il cittadino può cambiare il medico può prenotare tutte le visite tutti gli appuntamenti tutte le analisi del sangue possibili anche nelle altre ASLE è un sistema veramente ben fatto molto semplice molto fruibile che è dato anche perché il cittadino lo possa fare da casa quindi il cittadino da casa può farlo ma bisogna essere un attimo smart come si dice oggi non è che e noi poi vediamo che anche quelli smart vengono comunque da noi perché quelle quattro parole quella condivisione del pensiero li fa sentire più vivi li fa sentire più seguiti ecco e è fondamentale quindi vedere sempre questo cittadino al centro ripeto e e per quanto riguarda la telecardiologia che di fronte però a questi concetti che secondo me sono quelli fondamentali sembra poca cosa però è la prova con i numeri di come ci sia stato il gradimento la Liguria ha avuto un milione e mezzo di fondi assegnati come regione della seconda gruppo di regioni per la farmacia dei servizi appunto e ne ha stanziati subito quasi 160 mila per le farmacie che si sono strutturate fin dal 20 di marzo per le vaccinazioni covid in Liguria sono state 170 farmacie che hanno vaccinato al punto che il pubblico ha chiuso gli hub pubblici fino a oggi sono rimaste solo le farmacie per tutti i richiami per le soggetti che dovevano andare all'estero eccetera abbiamo continuato a vaccinare fino alla fine del mese scorso magari 3-4 vaccinazioni però veramente siamo stati molto graditi ai cittadini di questi fondi in una rimodulazione la quale abbiamo chiesto autorizzazione al ministero sono stati assegnati 1.240.000 euro per la telecardiologia la telecardiologia è sperimentale al momento perché abbiamo utilizzato i sistemi che da 10 anni abbiamo nelle farmacie i provider che abbiamo un sistema più che sperimentato come servizio per il soggetto che poteva pagare dal primo di giugno giugno come organizzazione primo luglio l'attività che abbiamo portato noi abbiamo in previsione quasi 25.000 prestazioni da origare in ambito servizio sanitario regionale 9.720 ECG 6.210 pressori 8.900 cardiaci questi sono delle stime ma è la cifra quella che conta per cui può essere rimodulato tranquillamente e che cosa abbiamo abbiamo fatto abbiamo 270 farmacie su 600 che eravano questi servizi quindi siamo quasi al 50% e nel primo trimestre noi abbiamo già erogato quasi 4.000 prestazioni questo è il dato che ci deve interessare il cittadino lo gradisce il servizio è ottimo è fatto con professionalità sono seguiti ovviamente da noi e dai nostri collaboratori che stanno dando una disponibilità veramente veramente straordinaria a questo punto io penso che ti potrei quasi chiudere dicendo che attendo che questo sistema sperimentale di telecardiologia venga presa seriamente in considerazione dal ministero dell'istituto superiore di sanità e con i mezzi e i metodi che il servizio pubblico deciderà idonei per la rifertazione noi abbiamo fatto questo al momento a costo zero come organizzazione perché abbiamo usato quello che avevamo quello del quale ci siamo approvvigionati l'abbiamo sperimentato in forma non convenzionata e adesso lo stiamo mettendo in forma convenzionale quindi quei famosi raccordi spinotto si dice noi siamo pronti e insieme a noi della Liguria abbiamo già 11.000 farmacie in Italia rispetto alle 20.000 pronte per questa attività e dobbiamo dare però la giusta informazione perché quello che manca al nostro sistema sanitario è che arrivano solo le informazioni negative tutti i giorni io prenoto visite ve lo assicuro non è la Liguria non sto difendendo la Liguria che per certi versi probabilmente è anche indifendibile però io prenoto tanto e poi purtroppo devo dire di no per tante cose e qui va risolto ma va risolto anche con discorsi di appropriatezza di prescrizione con correttezza dei percorsi cioè bisogna comunque che la sanità abbia un qualcosa di riorganizzazione globale perché il cambiamento è stato veramente importante e dobbiamo cogliere questa occasione io l'altro giorno ero a un altro convegno anche lì era la fondazione Cardinal Maffi che ha fatto un convegno sull'importanza della carezza il valore di una carezza che è una cosa che mi commuove solo a dirlo è proprio il senso di quanto costa materialmente svolgere un servizio che non è fatto solo dare al soggetto problematico uno yogurt da mangiare io a mangiare uno yogurt ci metto un minuto un mio vicino lo vuole gustare con calma ci mette due minuti dare uno yogurt per una merenda un soggetto che ha scatti abbiamo visto questo piccolo video soggetti diversi soggetti che non sono lì pronti a essere imboccati ci vuole mezz'ora questa persona della casa cardinal maffi ci mette mezz'ora per assecondare quello che è la vita purtroppo di questa persona che è una vita segnata da tanti disagi e non dobbiamo mettergli un sondino e buttargli giù lo yogurt dobbiamo tenerlo in vita con quelle che sono le attività che secondo me vanno assolutamente valorizzate e io dico questo rubando vi dico in questa occasione è stato citato Gramsci io non sono un amante di grandi citazioni e letterature però l'idea dell'ottimismo della volontà mi piace molto e qui abbiamo tutte persone che rappresentano categorie di grandissima volontà che non va sprecata e Winston Churchill diceva l'ottimista vede opportunità in ogni pericolo il pessimista vede pericolo in ogni opportunità pessimista però rimane lì senza l'ottimista non andiamo da nessuna parte l'esempio dell'aereo l'ottimista Churchill l'ottimista progetta l'aereo il pessimista progetta il paracadute ma il paracadute senza l'aereo non serve niente e noi non andremmo da nessuna parte quindi le farmacie Federpharma che io qui rappresento la Liguria ma il mio amico Marco Possolo grande presidente che io ho sostenuto fin dall'inizio è una persona che vede le cose così e sono convinta che tutta la categoria saprà portarle avanti con questo ottimismo grazie grazie adesso la professoressa Erika Mallalini io l'ho di Gianni Fragani professoressa della Boccone di Economia Sanitaria in questa ci metterebbe in smartphone va bene ti abbiamo sentito fino alle due e mezzo onore mio no pensavo di parlare fino alle tre tanto non avete fame no allora no sarò estremamente sintetica intanto grazie per l'invito è sempre importante parlare di questi di questi argomenti perché comunque la comunicazione anche così interdisciplinare aiuta a rendere poi concreto il cambiamento mentre tante volte ci parliamo un po' sempre all'interno dei nostri dei nostri piccoli piccoli gruppi allora io mi occupo di economia nell'ambito del mondo del grande mondo della sanità e del del socio sanitario anche noi siamo nati non come università a Bocconi ma come centro di ricerca della gestione dell'assistenza sanitaria in Bocconi nel 78 quindi con cittadinanza attiva con il sistema con il sistema sanitario allora mi è stato chiesto di fare una una sintesi degli tantissimi spunti che sono stati dati oggi e questa sintesi sarà però anche una sintesi ottimista quindi mi leggo a Elisabetta che diceva per fare le cose è importante essere essere ottimisti secondo me neanche soltanto ottimisti tra l'altro è vero che ci sono tanti cambiamenti è vero che la nostra sanità sta affrontando un momento di grande discontinuità ma in realtà si sono sviluppate anche tante opportunità che fino ad aieri non avevamo e soprattutto siamo in un settore dove la programmazione non è poi così difficile perché di fatto l'evoluzione che sia demografica che sia legata alle patologie alle salute è oggettivamente un fattore abbastanza prevedibile allora quali sono le discontinuità che ribadisco non sono solamente delle delle criticità la prima sicuramente è una criticità anche se spinge molto al cambiamento l'uomo è un essere abitudinario noi difficilmente cambiamo approccio però lo cambiamo di fronte a la percezione di un rischio noi modifichiamo i nostri comportamenti e quindi anche le nostre organizzazioni le nostre strategie a livello di istituzioni di imprese a fronte di rischi e questi rischi possono essere rischi o di tipo funzionale e questo ce l'abbiamo perché come vedremo un po' più avanti comunque è cambiato la tipologia di bisogni sanitari io dico anche per fortuna che è cambiata perché vuol dire che viviamo di più anche quindi di fatto anche la crescita di questa cronicità che porta sicuramente dei costi nel sistema sanitario però vuol dire anche che viviamo di più è dovuto al fatto che invecchiamo più che rispetto alle generazioni precedenti quindi abbiamo sicuramente un rischio funzionale più anziani più patologie si cambia di fronte a un rischio economico sta partendo una gran bella crisi in tutta Europa in particolare per cui anche questo sarà una spinta a cambiare e poi c'è anche l'aspetto del cambiamento del rischio psicologico ecco il covid ha portato ad avere una maggiore percezione rispetto all'importanza della salute quindi oggi siamo tutti più consapevoli dell'importanza di avere un sistema sanitario strutturato a livello non solo di capacità di rispondere al singolo individuo ma di gestire tutta una collettività le interdipendenze tra le collettività abbiamo visto un problema organizzativo e questo ci porta a investire in questo senso crisi economica finanziaria anche se oggi si è detto tanto male del mondo del privato soprattutto in termini di erogatori ma vogliamo parlare male anche di altri finanziatori come possono essere la sanità integrativa in realtà vedremo come la sanità integrativa non necessariamente voglia dire portare un'inequità se gestita può di fatto portarci nuove risorse per rispondere a quella crisi economica quella crisi economica o finanziaria che di fatto impatta anche sull'organizzazione dei sistemi sanitari infatti vediamo nascere nuovi soggetti sia sotto il profilo pubblico che sotto il profilo privato e ben venga la varietà perché a fronte di una varietà di bisogni è importante anche avere più soggetti che rispondono a questi bisogni quindi si parla proprio di ridefinizione della geografia dei servizi sanitari e poi c'è il tema assolutamente rilevante di tutte quelle che possono essere le opportunità che derivano dalle tecnologie digitali allora in maniera molto molto breve crisi di tipo finanziario allora noi abbiamo purtroppo un livello di spesa pubblica sul sul PIL che si aggira sul 7% quindi di fatto possiamo dire che il nostro sistema è un sistema sotto finanziato stiamo a dire il vero abbastanza in linea comunque con gli altri con gli altri paesi però comunque vediamo dei sistemi che hanno lo stesso livello di qualità del nostro che si muovono intorno al 9-10% dico lo stesso livello di qualità del nostro perché quando vediamo nel medione europeo altri paesi avere magari un livello più basso e vi garantisco che sono purtroppo pochi purtroppo nel senso per noi vuol dire che siamo in ultime posizioni però non erogano lo stesso livello di servizio che noi siamo in grado di offrire ai cittadini il PIL siamo in fase di crisi siamo in fase di recessione quindi va a scendere e sempre la spesa sanitaria in realtà segue di fatto il PIL quindi aumentano i bisogni e abbiamo meno risorse a disposizione non siamo gli unici dicevo è così in tutta Europa solo che la differenza tra noi e l'Europa è che gli altri hanno fatto delle riforme subito dopo il Covid riforme che hanno poi bridato i sistemi pubblici con quelli privati che hanno visto andare solo in pochi casi in un incremento delle tasse ma nel cercare di fare una maggiore governance sulle risorse disponibili e nel cercare di evitare che i sistemi sanitari fossero in competizione con tutte le altre esigenze pubbliche perché poi alla fine il fondo sanitario è determinato non solo da quelle che sono le esigenze della sanità ma anche rispetto a quelle che sono le esigenze nelle infrastrutture nei trasporti nel sociale e via dicendo quindi andando a portare delle risorse specifiche che fossero più indirizzate alle categorie maggiormente a rischio quindi il principio che ha guidato tutto questo è quello dell'equità noi abbiamo un principio basato sull'uguaglianza bellissimo che oggi non ci possiamo più permettere l'equità non è un principio un valore però meno rilevante rispetto all'uguaglianza noi non le abbiamo fatte quindi questa è una cosa brutta non è una cosa così brutta nel senso che le possiamo ancora fare quindi e abbiamo anche delle esperienze a cui guardarci perché pensate che la Francia ne ha cambiate tre nel tempo vedendo che cosa funzionava e sto parlando da post covid quindi noi possiamo anche in qualche modo godere dell'esperienza altrui e la crisi ci può aiutare a dire forse è il caso di fare qualche intervento di tipo finanziario vi dicevo negli altri paesi qual è la nostra peculiarità non è tanto quella dell'incidenza della spesa pubblica sul totale della spesa sanitaria perché più o meno noi ci muoviamo come l'Inghilterra ecco che forse è il sistema più simile al nostro il fatto che noi abbiamo un eccesso di out of pocket che non è compensato dalla spesa sanitaria intermediata cioè il sistema della sanità integrativa di fatto oggi contribuisce relativamente al sostentamento della della spesa della spesa sanitaria questo ci dà sicuramente mantenendo il principio di equità delle delle grandi delle grandi opportunità alle quali si può fare riferimento voi direte sì ma la sanità integrativa poi la prima ricade sempre sul sul cittadino vero ma se il sistema viene governato e oggi secondo me anche un po' per preconcetti non lo governiamo noi facciamo finta che non esista è il male quando invece in qualche modo può contribuire in ogni caso non è neanche un valore così così piccolo ecco non è un valore così piccolo o meglio non copre neanche così poche persone perché comunque prima del covid il 20% della popolazione italiana aveva una copertura assicurativa oggi è più alta perché è cresciuto con il covid ma non voglio dare numeri semplicemente perché per quel 20% eravamo sicuri i dati che vengono forniti da da Ania Ania stessa non li sta dando adesso recentemente perché stanno facendo anche loro i conti è un po' più complicato quando un sistema è un sistema privato però a questo aggiungiamo anche il welfare aziendale che comunque è una variabile estremamente importante di cui tener conto vogliamo dire che questo sistema copre soltanto come un tempo i fondi come il FASI cioè va a prendere il mondo dei dirigenti ma in realtà oggi voglio dire ci sono anche le casse dei Necta meccanici quindi comunque il sistema può andare a integrare però ripeto sta governato e non ignorato perché altrimenti ci sta tutto che ci muoviamo verso ampliare le diseguaglianze nel nostro nel nostro territorio cosa ha anche di elementi rispetto ai quali sta investendo che in qualche modo possono contribuire considerate che gli investimenti della sanità integrativa in prevenzione sono molto importanti sono molto importanti perché sono buoni no sono molto importanti perché se nel sistema sanitario pubblico l'investimento in prevenzione è un costo perché poi noi diciamo sistema non è sistema ci sono tanti attori quindi è chiaro che prendiamo proprio la cosa più stupida della prevenzione più stupida nel senso più ovvio e più facilmente monitorabile cioè l'aderenza alla terapia che come diceva prima anche Elisabetta in Italia è il 46% facendo il medione sulle patologie quindi i rischi e i costi che porta sono estremamente alti solo che se siamo in regime sanitario pubblico la compliance vuol dire aumentare il costo dei farmaci quando invece il costo di ospedalizzazione va a finire sull'ospedale quindi da un lato la ASLA TS chiamatela come volete e dall'altro l'ospedale sono due soggetti diversi quando parliamo di sanità integrativa invece se il paziente non aderente finisce in ospedale sono tutti i cavoli miei quindi semplicemente per una questione diciamo di tipo aziendale l'attenzione alla prevenzione nel mondo della sanità integrativa è indispensabile stanno aprendo ambulatori stanno iniziando a collaborare col mondo delle farmacie stanno iniziando a collaborare col mondo delle aziende farmaceutiche è brutto in un paese come il nostro che comunque è basato su un sistema sanitario nazionale beh quando ad esempio ancora non sono approvati dal punto di vista del prezzo alcuni farmaci innovativi e comunque persone non muoiono perché attraverso la sanità integrativa vengono pagati direi che non importa che li pagano l'importante è che comunque abbiamo meno morti ecco chiamala così crisi di risorse economiche ma anche umane è stato citato è stato citato prima anche qui se noi guardiamo il nostro dato rispetto agli altri paesi europei non si vedono delle grandissime differenze però se noi andiamo a vedere in prospettiva abbiamo un problema cioè abbiamo il 46% dei medici che ci va in pensione nei prossimi dieci anni e non solo abbiamo anche un altro problema la carenza degli infermieri negli altri paesi comunque ci sono addirittura a volte meno medici per popolazione rispetto a noi ma l'organizzazione è diversa è estremamente diversa noi siamo molto gelosi quando un'altra professione sanitaria inizia a svolgere l'attività adesso io il medico generale dello specialista siamo l'unico paese in cui la diabetologia è in mano solo ai diabetologi che non ammettono un supporto dai parte dei medici di medicina generale i medici di medicina generale non vogliono i farmacisti i medici di medicina generale e gli specialisti non vogliono gli infermieri quindi se la figura sanitaria del medico non è coerrivata dall'infermiera è chiaro che le attività che svolge sono assolutamente di più e poi abbiamo un altro fattore secondo me molto 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 rilevante che è quello delle differenze a livello di territorio è stato detto anche in apertura l'Italia è lunga e stretta il nostro territorio è estremamente differenziato quindi di fatto il numero di persone per medici non è la stessa cosa se parliamo di Lombardia rispetto a parlare di Basilicata questa grande differenza richiede delle soluzioni diverse quando spesso noi facciamo comunque delle riforme vediamo quello delle case di comunità che sono cosa diversa dalle case della salute come se lo stesso modello organizzativo dovesse essere attuato in tutta Italia quando poi a livello regionale le risorse che abbiamo a disposizione sono diverse ma anche la popolazione è organizzata in modo diverso io vorrei concentrarmi infatti su quel disegnino dell'Italia in cui è sparita la leggenda tutte quelle aree Elisabetta vorrei farti vedere dalla tua parte quella tristezza di punti neri sono la desertificazione sono paesi che paesi nel senso di realtà comunali minori per le quali si ipotizza che dato il decremento rapido nettamente superiore alla media delle nascite probabilmente spariranno nel giro di dieci anni cioè noi stiamo programmando rispetto a una struttura attuale tra dieci anni ci sono dei paesi delle zone che spariscono e quindi che facciamo e quindi ha senso la programmazione che stiamo facendo oggi in termini di organizzazione dei servizi e guardate cosa è cambiato in termini di struttura demografica non è mai successa una cosa del genere che così velocemente tra in vent'anni quella linea di popolazione dove il livello più alto era 35 anni ci si è andata a spostare sui 55 però anche questo io lo vedo come lato estremamente positivo perché più volte oggi si è parlato di dover personalizzare clusterizzare il sistema sanitario noi abbiamo sicuramente tantissimi anziani e torno al tema del digitale anche se molti con il covid si sono digitizzati anche se molte tecnologie digitali sono semplicissime da utilizzare e molto amate anche dagli anziani comunque ci sono anche delle generazioni diverse e noi non possiamo impostare un sistema sanitario pensando che sia come pazienti che sia come professionisti siamo tutti della stessa generazione perché non è così per la prima volta nella storia sul lavoro stanno convivendo quattro generazioni i nuovi chirurghi stanno tutti facendo formazione nel metaverso e non sto parlando soltanto al Cielio nelle grandi ospedali milanesi e romani ma lo fanno in Liguria che non è esattamente una regione dei giovani diciamo anche in Calabria quindi se noi andiamo a vedere in alcune regioni non c'è niente però se io ho un medico che non sto parlando di telemedicina su cui concordo in qualche modo è già un concetto separato ma se da qualche parte non dico appunto come al Cielio che è stata una delle esperienze più belle della mia vita assistere a un intervento fatto a distanza in metaverso ma senza arrivare a quello possiamo benissimo dire che sì forse la nostra parte dei nostri medici farmacisti infermieri non hanno una grande tendenza alla tecnologia ma questo non vuol dire che sia così per tutti quindi è tutta una questione di distribuire a seconda di quelle che sono le competenze anche e l'altro aspetto è che è cambiata moltissimo anche la composizione del nostro paese tra italiani e stranieri oggi l'introduzione annuale di stranieri ha superato le nascite e i fabbisogni a livello sanitario quindi noi vediamo una popolazione che sembra quasi stabile dopodiché però tra un bisogno di un neonato di un bambino di otto anni e quello di una persona non dico perché immigrata ma perché c'è arrivato qua che di anni ce ne ha 40 sono completamente diversi anche questo ci dovrebbe effettivamente far riflettere come dicevo prima è cambiato anche il modo di comportarsi dei pazienti quindi il 22,4% che è tantissimo degli italiani ha fatto una televisita molti ne avranno fatta anche una sola però cerchiamo su Google e secondo me i numeri sono anche sottostimati perché ad esempio se lo chiedessero a me io direi che non è vero perché lavorando in sanità mi farebbe bruttissimo dire che io utilizzo normalmente Google per trovare delle informazioni sulla sanità quindi io non l'ho detto guai a voi essere trasferita a qualcuno e se noi ci troviamo in una situazione di maggiori bisogni e comunque bisogni diversi carenza di risorse economiche e carenza di risorse umane cambia la geografia dei servizi questa è la situazione delle case di comunità dico una cosa questa forse un po' più personale cioè tutto quello che ho detto prima è sempre correlato da dati qua è un po' un pensiero che mentre il mondo va verso le interconnessioni digitali noi costruiamo strutture per mettere insieme i professionisti mi sembra un po' paradossale ma non era di questo che volevo parlare di fatto è che ancora non è chiarissimo che cosa debbano fare intanto noi abbiamo fatto anche una ricerca sui medici dai quali è emerso che l'85% ritiene che casa della salute e casa di comunità siano la stessa cosa cosa che non è e sono proprio diverse quello che ci dovrebbe stare dentro ma poi la domanda è cosa ci dovrebbe stare dentro perché se noi andiamo a guardare abbiamo fatto la ricognizione alcune case della salute sono delle specie di pronto soccorso per codici verdi mettiamolo così altre sono case di medici di medicina generale altre sono dei poliambulatori altre sono delle realtà dedicate ai pazienti cronici altre sono realtà dedicate ai pazienti fragili che va benissimo perché come dicevo prima le esigenze sono diverse se io penso alla Liguria cito sempre Liguria ma non solo per via di Elisabetta ma io sono genovese quindi se io cito la Liguria penso noi siamo pieni di pazienti fragili quindi a me andrebbe benissimo le case della salute dedicate ai pazienti fragili che hanno anche bisogno oltre che della digitale sicuramente di strutture di strutture fisiche dicevo cambiano gli erogatori pubblici quindi abbiamo un modello che non è chiarissimo dove va delle case di comunità ma esistono esistono e siccome ci sono tanti investimenti facciamoli funzionare dall'altro lato ci sono erogatori privati come la sanità integrativa che vi dicevo prima ma pensate patient support program ci sono start up digitali start up digital poliambulatori digitali le farmacie le smart clinic soggetti gli IRCS che hanno fatto delle delle smart clinic cioè siamo in un mondo dove appunto l'Humanitas mi apre un centro dentro un centro più centri dentro i centri commerciali allora c'è tanta offerta io ribadisco l'offerta è un aspetto assolutamente positivo perché c'è varietà il problema è l'appropriatezza nell'utilizzo delle strutture sia per utilizzarle quando servono sia perché le utilizzino i soggetti diciamo così corretti giusti la farmacia so che ne ha parlato prima Elisabetta ha parlato di vaccinazione ha parlato di telecardiologia io una sottolineerei anche il deblistering per la per la compliance quindi tante cose che effettivamente sta già facendo sicuramente c'è stato un booster che è stato il il covid però poi il senso qual è è che l'unico presidio sanitario che è capillare e in una struttura orografica come quella italiana presidio sanitario professionale non sono medici sono farmacisti ma non è solo il farmacista è anche la farmacia come touch point che è fondamentale perché non possiamo fare tutto in maniera digitale quindi è molto importante che cosa succede però credo che se ne parli giustamente moltissimo in sedi come questa troppo poco nell'ambito delle altre sedi perché io occupandomi di sanità giro un po' tutte le tipologie di convegne di tutte le aree terapeutiche professioni sanitarie e si parla di questo tendenzialmente quando siamo nel mondo nel mondo dei farmacisti quindi ci sono anche tante cose che la farmacia sta già facendo tra l'altro da da tempo e nonostante una legge del 2009 che parla di convenzionamento abbiamo dei casi come quello della Liguria come quello della Lombardia però abbiamo anche tante regioni appunto dove si va così si fa quel che si può la tecnologia la tecnologia non è solamente la telemedicina non parlo di metaverso ovviamente ma parlo di cose che ci sono come i farmaci digitali cioè quelli che all'interno hanno dei sensori che ci consentono proprio di personalizzare la terapia sul singolo individuo perché vedo i livelli di assorbimento quindi e questo di fatto esiste oggi non è una cosa che è in via di sperimentazione abbiamo la mia passione anche questa sviluppata a Genas non sto facendo lo spot della Liguria che è R1 che è un assistente domestico che si occupa delle persone anziane che gli aiuta a fare la riabilitazione che gli prende le cose se li cadono che vede se la persona anziana sta male e c'è sia il livello basico che lavora come un infermiere è una cosa che c'è già attualmente in Italia lo si utilizza in più di 40 RSA si può usare in RSA ma anche a livello individuale c'è già il modello diciamo successivo da 9 anni che è quello che segue le persone che hanno delle disabilità cognitive quindi che aiuta a fare degli esercizi ad esempio ai pazienti affetti da Alzheimer mi avvio alle conclusioni allora ci sono tanti cambiamenti ci sono anche tante soluzioni in realtà a questi cambiamenti purché come si è detto fin dall'inizio queste soluzioni siano integrate se io prendo il continuum of care cioè tutte le fasi di vista della persona in questa slide dove vedete sotto l'aria tratteggiata quando la persona sta bene e quindi il mondo della prevenzione primaria sopra invece vediamo tutte le fasi legate alla prevenzione secondaria la fase della terapia la fase dell'aderenza l'immissione e via dicendo allora se noi pensiamo intanto alle persone sane non posso manco pensare al medico di medicina generale perché l'unico presidio sanitario dove vanno i sani è la farmacia ma la farmacia non può fare tutto ovviamente perché non ha dall'interno e non può avere un medico però qui tutto quello che riguarda il mondo della telemedicina e in questo caso parlo di telecoaching di prevenzione primaria aiutare le persone su un'alimentazione sana sul movimento e via dicendo può fare molto di più di quello che ad oggi gli viene richiesto nell'ambito dei piani regionali di prevenzione o nei piani della cronicità poi c'è la fase di prediction quindi il cercare di capire se una persona incorre nel rischio di una patologia e anche qua ci sono tantissime sperimentazioni che sono state fatte con le carte del rischio eccetera che hanno avuto assolutamente degli ottimi risultati dal punto di vista di ritorno qual è la difficoltà andare sui grandi numeri perché fare un'operazione somministrare una carta del rischio in farmacia mi chiede almeno 20 minuti e il tempo non c'è perché abbiamo parlato di pochi infermieri e pochi medici garantisco che con i farmacisti siamo in una situazione assolutamente drammatica non si trovano farmacisti moltissime farmacie ci avrete fatto caso che prima facevano il notturno ed erano aperte durante il fine settimana non lo sono più quindi andando completamente avanti il teleconsulto per il confronto tra diversi operatori se non ci troviamo a doverle scaricare dei pdf ma chiaramente con dei sistemi interoperabili andando andando avanti su tutte le diverse tutto quello che voi vedete scritto in verde è una tipologia di tecnologia di telehealth o di digital health forse più corretto diversa che può accompagnare il paziente in tutte le fasi favorendo quello che si diceva prima la programmazione riducendo le liste d'attesa potendo fare un servizio personalizzato non solo sotto il profilo della cura e del successo terapeutico ma anche sotto il profilo della carezza dell'assistenza dando a ciascuno effettivamente quello che gli serve differenziando per territorio e con questo vi lascio andare un po' quelli che sono i punti i punti quindi centrali perché la richiesta che mi era stata fatta era ma ci sono dei modelli al fatto che noi abbiamo tutti gli strumenti ci sono tutti abbiamo tutte le tecnologie e abbiamo tutte le persone perché sicuramente noi abbiamo del personale sanitario che tutti ci dividiano e che di fronte a tutte le difficoltà e l'hanno dimostrato durante il covid sono estremamente recenti quindi fanno molto di più di quello che viene richiesto garantisco e dobbiamo massimizzare cosa serve dobbiamo massimizzare i touch point se vogliamo fare programmazione dobbiamo prendere le persone anche quando sono sane dobbiamo seguirle a casa il cosiddetto hospital dobbiamo fare in modo che ci siano tanti punti e non è più la figura centrale di riferimento non sto parlando male dei medici di base sto solo dicendo che tecnicamente non ce la possono fare perché sono pochi e perché sono troppe le cose che servono quindi abbiamo bisogno di avere più punti di contatto per il paziente cosa mette insieme tutto questo un sistema informativo che rende interoperabili le altre informazioni rende interoperabili tutti gli altri tutti gli altri sistemi abbiamo bisogno dell'integrazione appunto l'integrazione tra i diversi professionisti evitando di litigare costantemente e anche tra le strutture per strutture intendo sia mondo pubblico sia mondo accreditato e come si diceva prima il mondo accreditato non è non è un mondo privato certe volte noi confondiamo erogatori che siano cliniche che siano farmacie per soggetti come se fossero privati ma sono accreditati stanno operando per conto del sistema sanitario e il mondo però anche privato privato che sta assolutamente facendo il suo ma per far tutto ciò è fondamentale anche l'empowerment del paziente perché è smetterla di trattarlo da bambino con toni paternalistici cioè paziente è una persona con la testa pensante che si conosce anche bene quindi autocura responsabile non parliamo di autocura ma semplice ma autocura responsabile e questo è un tema centrale ma per fare tutto questo sistema di rete e per questo vi dico che sono però ottimista abbiamo i professionisti abbiamo i cittadini che sono tra l'altro in Italia anche particolarmente braviti perché pensiamo quanto le nostre famiglie comunque sono in grado oggi di stanno facendo per necessità però fanno gli architetti un po' della salute e si prendono cura delle persone anziane delle persone fragili e via dicendo quindi abbiamo tutto la questione è che litighiamo è puramente culturale è solo quello non ci sono delle difficoltà non c'è neanche un problema poi così grosso di risorse se siamo bravi a dimenticarci dei conflitti che sono assolutamente culturali le cose ci sono si tratta solo di fare sistema purtroppo in quello non siamo bravissimi ritardissimi ringraziamo la professoressa Erika Mallarini così abbiamo sentito tutti i punti di vista quanto è importante il pubblico quanto è importante il privato tutto il pubblico Grazie.